Grazie a tutti. 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 che i scultori che mettono a posto un busto. Così che mettono a posto? Un busto. Un busto? Portava il busto? Non lo sapevo. E va bene, così sarà più riso. Io mangierò da sole, mangierò più tanto. Ficcia questi fusi nell'olio, tanto gli è ben fritti. Oh, ora se me lascia finiti. Ma che prima l'obbligazione è dopo l'innovazione. Oh, niente fiori ma opera di bene. E dove siamo? E dove siamo? Ah neanche, pigiare quei cucina. E vediamo un po', se in questa casa può contare qualcosa anche ai vivi. Si 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 si, se può contare qualcosa anche ai vivi. Non mi arrabbio, non mi arrabbio, non voglio arrabbiarmi. Che si arrabbio muore. Non voglio morire, non mi arrabbio. Voglio vivere. Vive, ma diema. Mi vuole morire. Vivere. Oddio, mia. Vivo, e canto. E suono. E suono. E suono. Nella tromba, tre lepido, io pugnerò, ma forte, per l'affrontare tutto, ridendo di libertà. E così, e così, e così, e così, metto tavola, mi siete, poi mangio e ti no, e così. Fatti coraggio, fatti coraggio caro. Ciao Faustin, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, francese. Ciao Faustin, buongiorno. Buongiorno anche a lei, grazie a voi. Comodi, comodi. Grazie, ma è già tardi. Abbiamo voluto accompagnarvi, ma dobbiamo andare. Ma un momento in solo, tanto per prendere un poco di respiro. Sedetevi, sedetevi. E' stata una cerimonia come ventissima, ci ha sasciuto Faustin, un busto somigliantissimo, vivo. Ma, povero Giulio, a volte si ha l'impressione che il marmo si abbia da animare e sentire ancora la sua voce, quella sua bella voce baritonale. Sì, quella pilota. Ma, povero Giulio, quello che era un amico. Ma, Ciccin... Oh, scusa, non ci pensavo. Ma perché? Parlare di lui è un conforto, no? E' specie sentir parlare da chi, come voi altri, l'ha conosciuto a fondo e ha potuto apprezzare tutte le sue buone qualità. Nessuno più di noi ha potuto apprezzarle. I nostri affari li amministrava lui, e come bene. E' vero, Zaira? La verità. E' così. E' proprio andata così. Salve, Pepe. Peccato, peccato che non abbia saputo amministrare bene il suo come lo amministrava quello degli altri, meno di loro. Ma pare che qualcuno si sia approfittato della sua fiducia. Ma sì, è stato certamente vittima del suo buon cuore. E poi si sa come si cede. Questa panpertuso se ne fa un altro. E' così. E' proprio andata così. E' proprio andata così. C'è un pochino più a... E' spazio, c'è un pochino più a... C'è un pochino più a... Ah, prima bisogna che io scriva quella lettera e passi dalla sposta per fare la raccomandata. Oh, a proposito, signor Bacicin, mi raccomando, eh. Oh, può figurarsi, signora, non fosse altro che poter ricontracambiare in qualche modo tutto il bene che ci ha fatto, procurando così un piacere a quello che è stato il compagno della sua vita. Sì, secolo, secolo. Ma, di cosa è che... E te lo diranno dopo colazione? No, no. Stai in pochi, stai in pochi, stai in pochi. Comodo, comodo, sì, e siamo a dire le cose. Ecco, si tratta di vedere se è possibile che la signora possa avere la sua tomba vicina a quella del suo povero marito senza dover ricorrere all'esumazione di lui, dato che dove riposa è la più bella posizione del cimitero. C'è quel bel foggioletto davanti. C'è il foggioletto davanti che posizioni, eh. Ogni tanto può venire fuori e prendersi da una piazza. cimitero. E perché non ne ho tirato fuori abbastanza di bigetti da mille, via. Prima, prima, prima per levarmi le gioie d'impegno, eh. Ma dillo, dillo pure. Lo dì. Baci, cimitero. Baci, cimitero. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Ciao Faustin. Salutarla. Sarebbe un delito per la rosa se lei partisse. Dimenticato, dimenticato, dimenticato. Cos'è che? Dimenticato di salutarlo. Ah, mi saluti. Arrivederci, Faustin. Ciao, ciao. 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 Se si trattesse di divertirsi, se si trattesse di andare a ribottare con gli amici, allora il signorino non guarderebbe a spese. Ma per, per caglia, per cagliamarsi. Faustin, nausea mi fai, nausea. Vina. Schifo mi fai. Ma davvero che non sei altro, eh? Una sciupa drussa? E cosa fai? Ah, niente, che non stavo una preghiera. Dì, signoro che cerca di lei. No, che vado a farsi friggere. Come? Che vado a farsi friggere. Anzi, per guadagnare tempo ti chiede. Dai l'olio, così vado a farsi friggere. Non ci sono, non ci sono. E ora vai. Mi cosa ha detto che sciaghi? Hai fatto male. Adesso vai di là e gli dici, guardi. Sa, c'è uno che assomiglia tanto, sa, lui. Ma lui non è. Eh, ma se gli vado a dire una cosa così, io mi pigio a pesce. Eh, non sbaglio nemmeno. Ma si può sapere più? E, o le suve, no? Il nome gliel'ho chiesto, ma non me l'ha voluto dire. Oh, però deve essere una persona di rispetto, eh. Perché è arrivato con una di, con gli automobili. E, o le suve non le vece, o le basano, no? Come, come? O le suve non è simpatiche. No, 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 ma è strano. Mi persone simpatiche da un po' di tempo io non ne conosco. Nemmeno me io. Io non ne conosco. Pessoa l'arma. Uh, Carlino. Bellissimo, Dio, che andava. Oh, mamma. È Carlino. È Carlino. È Carlino, in persona. Carlino, in verità, perché non me l'hai detto? È una bella improvvisata. Niente nome a questa peggia. Ma, fatta che mi dicesse, è Carlino e mi capivo che te... Ma, non lo potevo sapere. Ma, come c'è, è barbino, se non lo conosco. Oh, beh, sa che sei qui, prepara per un'altra tavola. Sì, sì. Poi ti avverti in cucina che c'è uno di più. Oh, Carlino. Oh, come stai bene. Anche ti mi fa che che sembra, è barbara. Non c'è, sì, sì, io sto, io, io sto bene, io sto bene. Oh, è quando, quando sei arrivato? Ah, Gena, ma Gena va avanti, eh? Ah, ma, a te non sa più che te chi, ma senza dire tre, ne quattro, ma sono venuto a fare una bella gita immediatamente. Hai fatto benissimo. Era già un po' che non ci si vedevano le altre, no? Più di dieci anni. Più di dieci anni. Ero il partito che erano ragazzi da un bambino. Bambino, no. Bambino, avevi le brache corse? Avevi le brache corse? Eh, sì, avevi le brache corse? Eh, sì, avevi le brache corse. No, di preciso, non lo so ancora, ma un paio di mesi, certo. Ho lavorato per quattro, se mi ferma nì, se mi viene addosso la febbre. E la febbre del lavoro, ogni tanto... La febbre, sì, la febbre. Sì, la febbre. Che succede? Ma poi passa. È bravo Carlino. È bravo Carlino. E poi ho cominciato ad avere delle commissioni, dalla Colonia Cosmopolita, poco a poco. Dalla Colonia Cosmopolita, eh sì. Cosmo? Polita. Ah, lì c'è il mare, se... No, Polita. A Nizio è una stazione climatica, ci sono gente di tutte le razze, le nazioni. Succede, 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 ma poi passa. È bravo Carlino. È bravo Carlino. Come è capitata l'occasione di far ritratto al re del Siam, che era di passaggio da Nizio? Quella è una bella occasione. Al re di coso? Del Siam. Siam. Eh sì? Era. Un re. Passava. No, passava. Tic, t'ha fatto la fotografia. Ha posato, ha posato. Ha posato. Ha posato. Ecco, 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 ecco. È bravo Carlino. Pensa un po' Carlino. Se fossero vivi i tuoi uppapà e i mamma di vedere il suo figlio così nella celebrità. Non ha bella posizione. Eh no, perché è una bella, no, no, hai una bella, no, hai una bella, no, hai una bella posizione. No, hai una bella posizione. No, per portarlo avanti. L'automobile. L'automobile è tuo. Io ho fatto il viaggio da Nizio. Ma detto la contadina, capisci a vedere, a parte a vedere una corazzata? Eh, è vero? Un po' razzata, no, oddio, una 40 HP. L'automobile? Si, dico una 40 HP, non è una grande macchina. 40 HP. Non la capisco. Eh sì. Ma ecco, mi spiego meglio. Diciamo 40 cavalli. Ah, cavalli. Ecco. Cosa, allora io non ho ancora capito bene. Non ho ancora capito bene se sei arrivato con l'automobile qui, cavalli. Ma no, ma il motore che porta 40, 40 HP, cavalli, in termini tecnico io non saprei spiegarmi meglio. Eh sì, succede, succede, ma poi passa, è bravo Carlino, è bravo Carlino. Però, però l'ho comprata d'occasione, eh, d'occasione. Di me qua. E Asia? E Alea, stanno bene? Sì, stanno bene. Adesso la vediamo. Alea? Meschinetta. Ho sentito della, della disgrazia, delle... Grazie. Dimmi un po'. Come è andata a suicidarsi? Debiti. Per i debiti. Debiti. Debiti fino a scia a punta di cavalli. Per via del gioco, no? Non si sa, mistero. Un giorno per fare fronte a degli impegni si è approfittato, pare, del deposito di un cliente. Ma perché era un avvocato questo? Era avvocato, l'avevano fatto studiare l'avvocato e se li sono spesi bene le parole anche per farlo studiare l'avvocato. No? E insomma che si è trovato con la colla, con la colla, non sapeva più come fare, si vede allora lui con una botta di trecchiatra che ha chiuso il bilancio e ti stavo. Chissà, l'Alea meschinetta. Eh, non me ne parlare, non me ne parlare. Dopo quasi un anno ti avrei dire che lì che piange come se fosse mancato ieri. Vedi, vedi? E pazienza che fosse stato un essere che avesse meritato la botta, l'elidume che fa il suo bilancio. Ma non era qualcosa di speciale questa cosa? Ma non era qualcosa di speciale, voleva un scemo. Ah sì? Voleva un scemo, se non era un scemo speciale. Oh, ma per dopo. Ma tutto quello che l'ha fatto, ha fatto un fin di pezzo. Sì. Un fin di pezzo. Sua moglie? Sua moglie ne aveva fatto una marmota che non parlava e non pensava se non con la sua testa e la sua bocca. Di mia moglie la sua c'era idume compattata, mia moglie. Io so, una donina che è con due caramelle e due marronclate. Sì, sì, sì. Se fai dire quello che vuoi a quella donna lì. O me la dei va in Norvigia, tutti e due al punto che è una volta perché io mi sono rifiutato di pagargli delle cambiali. Sì. Mia moglie è stata sei mesi senza guardarmi in fronte. Sì, sì, e mia figlia, mia figlia quando mi incontrava per la strada si girava dall'altra parte. E ti lascio dire, ma... Padre mio, me l'ho fatto, me l'ho fatto. Ma che roba. Me l'ho fatto. E nemmeno da morto mi lascia tranquillamente. Come sarebbe a dire? No, no, perché aveva dei debiti, ne aveva fitto. E ne ho lasciato di quelli da far venire la pelle di Galizia. Ecco. Beh, adesso, tanto l'Elea che l'Albina pretenderrebbero che io pagassi questi debiti per un riguardo alla memoria dell'estito. E siccome io non intendo di pagare tutti i giorni, scena, lacrime, musi, lunghe, ma come? Io dovrei andare in rovina per uno che si è sempre pregato di vedermi morire per pagare con le mie palancoli sui debiti, ma ringraziando il Signore. C'è andato prima lui a sentire cantare il Barbaciani, sì. E voilà, e voilà, che Dio è giusto e misericordioso, non c'è niente. Cosa ti succede mai, Barba? Chi l'avrebbe mai immaginato? Non hai l'idea cosa è diventata la mia vita da un anno a questa parte. Sì. Si, se, stanco di lavorare, ho detto, beh, gioco tanto da vivere, cioè, cerchiamo di passare in pace questi ultimi anni. E le ho fatti bene miei conti. Ma un re bello, in questo paese, in questo schifosissimo di un paese dove... Pensa che i giornali da Sena a chi? Da Genova, qui i giornali, tre giorni. Tre giorni? Un giornale cibleto e tre giorni per arrivare qui. Che servizio! Nemmeno se veni sapere, ma per dire... È vero, è vero. È vero, è vero. Non c'è un cane. Non c'è un cane da starci un po' insieme e hai contratto qualche adorno per... Come ho quattro carretti con dei muli? Eh, carretti con dei muli, non puoi mica fare dei discorsi con i muli, con i carretti. Non c'è un cane, non c'è un scemo, ma non c'è un scemo da starci un po'... Oggi ti arrivo, ti combina, ti mando via! Eh, ma Barba, burlone! Per dire. E ti sai, il più bello divertimento in questo paese, che cosa l'è? Sì, sì. Andare per funghi. Per funghi? Non c'è altro che andare per funghi. Eh, beh. Esce perché qui è un paese che è un po' di sole, un po' d'acqua, funghi, sole, acqua, funghi. Non c'è altro da fare che andare per funghi, ecco, ci bisogna riguolarsi sui pei fossi. Sì, sì. È tutto perché un individuo c'è venuto l'idea di essere sotterrato dove era nato, come se a Senna fosse stata tanta terra abbastanza per coprirlo. E per quelle di là, come se a Senna, per quelle di là le lacrime non potessero fare il suo corso a ruota libria, scusa. Sì, sì. Noi parliamo di cemeteri, di tomboni, di tutti i giorni, tutto il giorno. Così, quando vogliamo stare un po' a evri, allora si parla di un trasporto funebre, allora non c'è mai. Ah, grazie, ma che razza di parte. Mi giro da una parte, c'è la figlia che piange, dall'altra la moglie che sospira. Anche la serva. Anche la serva. Anche la serva. Anche la serva, con un robinetto guasso sempre. Che affettivo? Oh, c'è Dico. E il bello è questo, che non sono neanche padrone di fare due passi per casa, senza vederselo davanti, col colo storto. E ti vedi tutti questi ritrati? Sì, vero. Tutti i suoi. Ah, è sempre lui? Tutti i suoi. Ho capito. Tutti i suoi, lo trovo in piedi, è seduto, curicato, tre quarti di profilo. Sì, sì, guardalo là. Tutti, ce n'è uno che pesca. Anche. Tutti i suoi. E mi pare sta giocando. Galleria d'arte. Sì, sì, sì. Galleria. In grasso libero. E non puoi fare due passi per casa senza vederselo davanti, perché giri un angolo, pò che lì, giri l'altro, pò che lì. Lo sai che non sapendo più dove metterlo? Me ne ha messo uno anche, me ne ha messo uno nella mia camera da lì. Anche lì. Proprio le frutti, oh me ne ha messo lì, l'impressione che mi fa corretrato. Alla sera quando vado a dormire, alla mattina quando mi alzo e me lo vedo sempre lì, con quelli di oggi da pesce, non c'è troppo fresco, che mi guarda. Mi guarda, fì, su pare che mi dica, ti chiede, non te lascia, ti ingeglie, nemmeno, per dormire, per dormire, per dormire, bisogna che pigeli, non so che fassi. Oh ma che punti, barba. A questi, a questi punti. Ti levilo, destacchilo. E che levilo, non l'ho staccato una volta, l'ho provato. Ho provato a staccarlo una volta al giorno, dopo ce n'ho trovato due. Eh non oramai, oramai. Eh andiamo, questo è troppo, no. Eh oramai. Ma sai cosa faccio? Sì. Oh me ne ritorno la cena da solo. Eh. Me ne ritorno la cena da solo, me ne vado un trattore, me faccio delle mangiate, giacca la casa, brucia a divertirmi, barba. Senti intanto un po' di distrazione, te la procurerò io. Ma sì, veniamo a pigiare spesso con una macchina, faimo delle belle gite in riviera, in città. Ma davvero, ti sarai tanto riconoscente. Carlino, perché non vieni a passare qualche giorno che cugnale? Eh perché no? Dire perché no? No, è sicuro, si andrà a cazzo, si giocherà le carte, qualche cosa si parla. Ho le bocce, ho le bocce, ho le bocce, ho le bocce, ho le bocce. Giochiamo alle bocce? Sì. Gioco sempre solo perché non ce ne sono. Da sole, come fai da solo? Gioco giolo, mangosio, guadagno sempre io, non faccio mai non me. Ma cosa che lui fa? Che vita, che vita che ti fai, barba. Senti, quando è parte, tu sai cosa si fa? Cosa si fa? Il vigno a passare un po' di tempo con me sulla costa azzurra. Eh? E' la costa azzurra? Che vigni? Eh? Ecco. Anche non costa azzurra. Che seguito? Qualunque colore va bene a costa, non so di dormire magari dove c'è il carbone. No, che oramai c'è un appartamento con 8 stanze, è tutto immobiliato, è un'altra cosa. 8 stanze, appartamento, 100 quartiere per un mese. 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 Fare un po' di reazione. Per un mese. Ovriacarsi di sole, garia di mare, casino, promenacce e lui niente. Niente, niente. E' parte male. Mi sono tutti i principiati. Oh, buongiorno. Bella donna. Bella donna. Bella donna. Eh? Senti che dite? Appena andiamo a Genova ti porto da un oculista. Perché? Eh? Furtima che la baradonna è un veleno. Oh, non. Baradonna? Sei girata! Ma che ve l'ho detto per scarso e potete portare il tavolo perché le signore sono arrivate e non si mangia più e non si mangia più cosa volete sapere? Giuseppe è il nostro discorso, adesso si parla del busto e del refurdo, insomma il busto l'hanno dato alla mattinata, hanno detto ma scopriamolo e l'hanno scoperto, hanno scoperto il busto è di marmo, è di marmo duro stagionato, va bene, ma ve lo dico io che so tutto è bello è bello è bello è somigliante, parlante, parlante, dice papà e mamma voglio sapere da che parte è voltato, da che parte è voltato, è voltato così, così come tutti i busti è voltato così, non l'abbiamo mica messo che è voltato così, che guarda quelli che passano è voltato così, è voltato a mezzogiorno va bene messaggio 12 un quarto va bene, sentite è voltato dalla parte che si vuole, hanno trovato un'idea nuova, è voltato dalla parte che si vuole, ci hanno messo un pernetto, una banderola lanciata a testa e secondo il vento si la parola la parola e ho visto qui, quali sarebbe una dei miei carnefici? è la serva è la serva, è il rubinetto, è il rubinetto, è il rubinetto qua, di me po', se vuoi lavarti le mani vuoi fare non so cosa o piuttosto se ti vado a dare un'occhiata alla macchina, non vorrei che mi fai facciato e poi se ne vorrei che sti infami a fare con la zona come la corruvigie, mi pare già di essere un altro uomo fai cagliate quando sapranno che è arrivato mappina Lea vediamo qui sentono che dovete andare ne prendiamo una bottiglia e ne prendiamo una bottiglia quando sentiranno che è arrivato Carlino che sa com'era chi sa com'era la bottiglia una cosa che è che improvvisata è andata un momento dal contadino adesso ritorna che si ferma a fare con la zona con noi mamma mi fai preparare nella mia stanza eh? perchè io non voglio vedere nessuno lo sai che la gente mi infastidisce quando le cuscino mi faccio vedere meno me ti faccio compagnia brava mamma al momento forse non mi sono spiegato bene è arrivato Carlino tuo cugino cresciuto in casa nostra dieci anni che non lo vedeva mi è diventato cugino ma che mamma dopo dieci anni ecco e chi redivivo lei a te stai? stai bene? ma si che stai bene questa qui ma è diventata più giovane la zia più giovane per rubatto hai detto come diventata giovane al mattino fa la corda adesso ci faccio fare quella fare lui ecco 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 quante cose da quello giorno hai saputo vero Carlino? la saputo la saputo vedi la commozione che deve arrivare volevano camminarti in corso non nel caso adesso arrivo lui si ferma a fare colazione con gli altri ma sentite mettite lì a fare colazione ecco ma domani facciamo le lasagne le lasagne le lasagne con le trofie come fa bene le trofie le lasagne con le trofie le trofie le trofie lasciano stare e lasciate servire da me ti vedi sono galinette galinette del mio polaglio e funghi funghettini trovati da me stamattina roba di stagione ora hai matto e volentieri lei 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 cosa c'è ma cosa c'è stato ma cosa c'è stato l'impiego mi mandò ma cosa cosa le è successo nel successo che ti ha perso il cervello ecco cosa le è successo i funghi i funghi i funghi i funghi Ma cosa ti ne hai fatto, tu giudizio? O che fa proprio a nominare i funghi che erano la passione? E come lo potranno? Oh, signor Santissimo Padre Eterno, proteggetemi! Proteggetemi del resto inverso la barca, andiamo tutti a barco! Ma che succede? Ma che punti, ma che punti di schiavitù! Sono ridotto! Ma finisce a dover mangiare come vuole lui, eh! Ah no, questa soddisfazione non te la do! Domani mi bevi magari un bottigio, un po' di riciclio, ma con i funghi li mangio tutti! Però mordi Dio, ma sono indigesti! Ma ci mancano i piatti! No signor, me la... Forza! No! La sforza di questo! Ma sono indigesti! Arratto! Niente! Niente! Ehi, ma poi a Filomena l'ha detto che per via di... E voi avete sempre rata con il seno a figli mandando a Filomena! E stiamo a vedere che tutto il genere romano non mi verrà più fuori e non potrà nemmeno più danzare! E' quello che dico anche a me! E invece quella vieggia l'ha già un giorno ci che l'altro! Non vorrei sbagliarmi, eh! Ma un sciù di cinque a Filomena devono armare qualcosa di grosso! Perché? E vedo sempre insieme a fare pisi pisi! Cosa fanno? Pisi pisi! Pisi pisi? Sì! E nessuno è lì? Cosa è sto pisi pisi? Ma c'è un padrone! Discurano insieme! Ah! Dimmi che parlano insieme! Pisi pisi! Parlano piano! Pisi pisi pisi! Eh! E poi un po' ci vede che l'ha detto anche un corlin di lasciare tranquillare la signora! Ma se fanno tanto di non stare agli ordini! Ah! A Filomena che mette in mano tutti i retrati del suo padrone! E poi con un calcio cazzo io dove ci faccio passare il calciallo della villa! Benissimo! E un sciù baci cimba figo con due schiazzi a dovere! Lo mando a parlare con i pesciolini rossi nella peschiera! Benissimo! Intanto dimmi poi! Sì! A Filomena ha detto di non balare! No! Io vi do l'ordine di balare! Fino a che avete delle scarpe indotto! Ah! Che bello! E vi portate un paio di scarpe di ricambio! Ma vabbè! Sì! Oh! Su padrone che bellezza! E poi mi andate a chiamare! Sì! Mi andate a chiamare quello dell'armonica! Oh! Sì sì! Te pago io! Bene! E mi andate a chiamare anche uno che suona la chitarra! Che pago io! Su padrone! Quello da chitarra che lo mi! È il mio cugino! Oh! Quello viene gratis! Ah sì! Sì! È un cugino! Un cugino! Sono la chitarra! La chitarra! E viene gratis! Gratis! Un cugino che suona l'armonica non ce l'hai! Quello non lo so! Lo paghiamo! Benissimo! Lo paghiamo! E sabato sera quando finisce di mangiare viene qua due satia anche a me! Buccia! A Romero era un ballerino a suo tempo che ci faceva caldo! Ma da più! Un ballerino! Per esempio! La mia passione! Valser! Oh che bello! Che bello! E il valser! Suonavano qualche mazorca! Io ballavo sempre valser! Generebbe un po' in fase che se lo sanno suonare lo facciamo insieme ma apriamo le danze! Apriamo le danze con quel valser! Che bello! Se non lo sanno suonare ce lo fischio! Sì! Ce lo fischio ma facciamo il valser! A quel valser! Alla così! Ballo! Ballo! E presto andrò a imparare anche la danza moderna! Voglio imparare la cucaraca, la rumba, la cacha, tutto quello! Sì! Buongiorno! Oh! Ciao! Come va? Che non mueres di libera? Eh, lo dito! Sebre sei adesso di una quattro o cinque giorni! ma quando manca qui dentro le giornate diventano mesi ma va la che in compenso stamattina da fare una bella proposta se basta di basta che non si tratti di farmi il ritratto quello no ormai mi hai fatto l'affronta di rifiutare una volta basta ma figurati io sarei orgoglioso di farmi fare il ritratto da te ma metti te in ponti ma poi mi fai un bel ritratto e non c'è niente da dire niente questi di casa prendono il bel ritratto che metta una bella cornice e fin qui non c'è niente da dire no un bel giorno io qui ci sarebbe da dire ma è inutile dire è inutile dire cosa succede? che in questa casa prendono questo bel ritratto con questa bella cornice e l'attaccano vicino a quel decotto là capito qui mi sono un po' giorni e notti tutti e due le vecine o no vabbè mi rispetto i tuoi idee non ne parliamo più dunque diceva che ho da farti una magnifica proposta una gita e un saluto nuovo sicuro ma più lunga e più bella di quante se ne è fatte finora approvata l'anima e troppo sicuro bene dimmi un po' la zia la lea sorella e ciao è vero? cosa mi piace andare io via via sono ritornato voi venite fate presto eh vado a dire una cosa importante io mi metto davanti mi metto davanti no che prendi l'aria così ti fa fare eh no ci metto il giorno metto un quadri a qualcosa non mi metto davanti mi metto davanti tutte barba di qui a via reggio che è circa 125 km in 2-3 ore ci si va ma comodamente di qui ha? a via reggio quel paese che è lì di quel monte lì non è via reggio è montaggio che c'è in tramontaggio? io dico via reggio ma via reggio? è sicuro con la macchina si non riesce a portarmi a via reggio si ma via reggio diremo via reggio proprio dove c'è via reggio Un uomo a Reggio, un uomo a Reggio sulla macchina della nostra cusina. Bravo, grazie a Succa. E lui? E lui? L'invito alla Lea, bisogna farlo ma con una certa diplomazia. Perché con la lista no, la attacca, la attacca, la attacca, la attacca, senza dare importanza. Come se fosse una cittarella quasi. Come fosse una passeggiata di niente. Giriamo l'angolo. Capito? Giriamo l'angolo che andiamo a comprare un pacchetto di sigaretta. Ecco, indifferenza. Indifferenza. Senza tanto importante. D'accordo. Eccola qui. Buongiorno. 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 Grazie, grazie. Stai bene? Carlino, vi dà gente. Ho un tempo magnifico anche l'azio. Sì, sì, sì. Senti caro, hai visto l'avvocato? Che domande, fino al primo giorno, immediatamente. Sicuro. Ecco, pazienza un momentino perché prima di tutto bisogna che dimostri che non mi scordo mai della mia azienda. Ma sei sempre l'azio. È arrivata la bevana. E chi parla del tipo dell'essere? Zia, intanto ecco chi è caramelle de menta, se piacciono. Grazie, ti hai ricordato. Sei già stai roba sempre con la caramella. E qui ci sono cioccolatini al cognac, ma deliziosi, eh? Anche questi per... Sicuro. Ma non te ne sono raffinati. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Ma figurati. Questi poi sono canditi di Genova veramente non plus uno. E tre. Ti vedete che mi mortifichi, ho guardato lei. No, 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 no. Non c'ho mortificato. C'è pazienza a mortificarci, ve lo so. Ma la che ti conosco, mascherina. Non ce l'ho. No, no, grazie. Ma perché ci disturbi? Naturalmente ci sono. C'è qualche cosa anche per te. Ecco, qui intanto un bel flaccocino di acqua. Di acqua, acqua, lei dì. C'è più grado. Acqua di colonia, si sente. Capirà, capirà. E caro, ma non dovete vincere. Basti, mi grazie. Dei disturbi che non ha ancora. No, no, no. Questa poi l'ho comperata col fatto di poterla cambiare caso mai non fosse di tuo gusto. Oh, ma... Nono perché vedi? Mamma, mamma, vieni a vedere. L'altro giorno dicevi di andare a Genova per via di una vestaglia. Eccola qui. Guarda, forse hai indovinato il tuo gusto perché un po' è una cosa un po'... Ma io non so cosa dirti, Carlino, ma è bella, bellissima. Sì, perché? Ma guarda, 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 che bella. Troppo bella, bella, bella. Carlino, 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 hai mica dimenticato? Ma faccio qualche pacchetto? Perché tu che dici? E' così ti va a casa di me? No, te lo volerai, no, nuvolersi mettere i pacchetti, buon blocco, un pacchetto, va... A me caso è menticato? Uno, due, tre, quattro, cinque... No, e su tutti tutti tutti. E' altro motivo che me, perché barba, scusa poter... Ho capito, mi mortifico, ho capito, mi son dimenticato. Ma cosa vai a pensare? Ma io non so Ma io non so Non so se potrò metterla Ma perché? È corta Ma no Ma che è corta papà Ma è piegata È piegata, è piegata Mi hai fatto la lunga Ma non è corta papà E allora? No soltanto vedi che sono in lutto no Bisognerebbe che fosse nera o almeno sai di una tinta un poco scura Nera, lutto, nera Sì papà cosa vuoi Lutto, nera E va bene la tinta, la tinta, la chappella Perché poi a forza di portarla una tinta si prende No, e la chappella Ma ti dà lutto lutto Dopo i primi sei mesi, ma lo è consuetudine, no? Andiamo, Lea Dopo i primi sei mesi è contratto Eh Tutti hanno il retardo di cinque mesi in mattina Sì La contratto E quel dolore vero non ha niente a che fare con le cose esteriori Scusa, Lea Questo è vero Quello che conta poi è il dolore intimo Intimo? Il dolore intero Ecco, brava, brava, cosa mi piace? Il dolore deve essere intimo Deve essere intimo, interno, il lutto E' interno, il nero Il nero deve essere interno Come i calamaretti Le seppie Una tonina intelligente come te, Lea Oh, dunque si diceva che sono stato dal tuo avvocato Sì, 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 dimmi, carlino Sì, sì, dimmi Eh no Sì, che ci sono stato Ma che ne è del tempo da buttare via, perfatti Dimmi, dimmi, dimmi Dunque, che io ho parlato col tuo avvocato Cioè con l'avvocato Ferrari Che per combinazione, guarda, abbiamo fatto il ginnasio a stile Ma davvero? Sì, Ferrari, perfatti E quando si dice, eh E dimmi, ti ha detto se è riuscita a risuotere qualche cosa? Oddio, qualche minuzia, qualche cosa Qualche minuzia, ma carlino, ma cosa dici? E' pure così, è così Dì, cosa c'è, papà? Sì, ecco, lasciate parlare Eh, bravo, lascia un po' parlare Ecco, ecco Dì, barba, sono cose serie Sono cose serie, lasciate parlare E io canto Eh? Vogliate parlare, se non lo faccio così, canto E io canto Dì, la legornavia Dicevo, per la liquidazione dei grandi magazzini Ti ha detto niente... Senti, ma a quanto pare questo credito Dovrà essere assorbito da acquisti di merce Che è rilevato da tuo marito sugli ultimi tempi Ma non pagata Andavrai la barba Ma papà, facci E' che tutto sarà E' stancacci Ma papà Ma parlate, parlate Venti venite No, no, no Finiamo? No, no, no Finiamo Allora Allora, eravamo rimasti? Rimasti Ah, ma ti dicevo Carlino caro Quelli sono conti presto fatti Non credo Ma sì Qualche taglio d'abito per lui Per il buonanima Poverino Un po' di bianchioria per casa Per me, guarda Per me Due camicette E basta E basta 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 Andiamo? Basta andiamo Ma dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare Sentite, sono quasi le nove Quasi le nove Alle dieci Si monta in automobile E verso l'uno Siamo a Via Reggio A Via Reggio A Via Reggio Lì ci sediamo agli etosimposio No Stiamo in piedi? No, parpa Andiamo a giocare la voce? No Ma pesca Dio, vuole cosa è lui? No, quando siamo a Via Reggio Oddio Si mangia un boccone Poi alla sera Al chiaro di luna Ritorniamo a casa Cosa da niente Abbiamo un po' di segrete Ti pare? Eh via Approvato Approvato No, no, no No, cari Grazie Ma andate voi Perché? Come andate voi? Come andate voi? Scusa Sì, è vero Io in automobile Ci sono già venuta E sì Ma vedi papà Si trattava di gite Qui nei dintorni E ben questa Scusa Stai a una gita Un po' più lunga Metti insieme Due, tre dintorni Facciamo quella di niente No? Giù Poi 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 Manna Eh ma Andare al ristorante No No, 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 no Io non Andare al? Al ristorante Al ristorante Sì Sì E il ristorante È dove Semana E non si può Andare al ristorante Non si può Ma che lo sa Andare al ristorante Andiamo al ristorante Al ristorante Si va a mangiare Al ristorante Andiamo mica là Per fare i fatti mortali Sulla staglia Andare al ristorante Andare al ristorante E' stata immobiliata Come vuoi Basta che sia un locale Che quando si è dentro Poi Si mangia Va bene? Capisci no papà Che capisco? Altro è un ristorante Altro è un localetto Un po' apartato E sono in lutto E sono in lutto Papà E Vabbè E in lutto Non deve più mangiare Perché sei in lutto Se quelli che sono in lutto Non mangiano più Cosa succede? Che muoiono E allora altri luti Altri luti E lì E mangi pazienza Non si può Piapparare Ma ci sono quelle gruote Si può andare al ristorante Si può andare al ristorante Ma perché Ma a me Ma a me Dove mi ha una cosa Stalmente grossa? Se mai E tu Non vieni Non vieni al ristorante Vado io Io in lutto Non ci sono E lo so Come ne vado al ristorante Tu te ne stai Dall'altra parte Della strada In una bella macchina Tutta di pentottenero Tutta di pentottenero Te ne stai là In macchina Vado al ristorante E ti porto Pitti Tani fritti Nella macchina Facciamo così Facciamo così Ma Vado le scorse No 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 Ma cosa no? Poi Poi al ristorante Ci sono le luci Ma che luci? Eh Ci sono le luci Al ristorante? Eh già Per forza ci sono le luci Per vederci Se non c'è la luce Non si vede E se non si vede Uno entra in un ristorante O si ingombo Fa da cosa Tutta la sala Va a finire In cucina Con la testa Nel minestrone Se non ci vede La luce La luce La luce ci vuole la luce Se c'è buio Che non c'è luce Uno prende la porpetta Invece di mettersela in bocca Se la mette qui Eh Se non ci vede Ma c'è la sacca la grossa Quale della luce Non c'è buio la luce Oppure entriamo In quel ristorante Ma ce lo diciamo al pedrone E cosa c'è? Ce lo diciamo al pedrone Guardate Noi entriamo Entriamo nel vostro ristorante Ma Via tutta la luce Via tutta la luce A meno che non ci abbiate Un po' di luce nera Una luce così a me sa Saluto Mi fai ridere E ma È un paziente Ma la grossa Se può andare al ristorante È vero che a Via Reggio Noi poi In fondo Non conosciamo nessuno Ma nel fondo Sì ma non conosciamo nessuno A Via Reggio Non conosciamo nessuno Se poi incontriamo Qualcuno che conosciamo Ci voltiamo di là E diciamo Ma ma che Sembriamo Ma non conosciamo nessuno Non conosciamo nessuno Facciamo una cosa Ci andiamo a mascherare E che mascherare C'è un amico di carnevale No? E a Via Reggio Fanno quelle cose Viace dei tulipani belli Ci mascheriamo Da tulipani Non conosciamo nessuno A Via Reggio Conoscevamo un Si conosceva uno A Via Reggio Non c'è più È morto È morto Morto negato Ma c'era il bagnino Non sapeva notare Ma non sapeva notare Ma non sapeva notare Andiamo 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 Vieni Ma Perché altrimenti Qui non si finisce più Ma non si potrebbe evitare anche la signora Zaira Cosciuga Ciccini Oh si papà Ma perché vuoi? Ma perché vuoi? Ma perché vuoi? Non fa piacere Perché non ti fa piacere? Oh no mi fa piacere Che non vengono Mi fa piacere Mi fa piacere che non vengono Non mi fa piacere che vengono Una delle due Siamo noi altri quattro Per il comodo E la macchina Noi altri quattro è basta Ci siamo sempre fatti Adesso non ci siamo più Siamo noi altri quattro Ma siamo noi altri quattro è basta Ma scusa Carlino Hai cambiato macchina? No sempre quella E allora papà E sempre quella Ma non ci siamo più Era una macchina La la passa due tre volte Mi hai scappato Ma l'abbiamo venta noi altri In Gaspari l'abbiamo venta noi altri Guarda un po' di tempo a questa parte Fa delle figure Fa delle figure quello lì Ma a mia vista è diventata anche più paleda Non è diventata Ma che manca un po' che ti nugastesi tutto Col tuo simposio Le bocce eccetera Mi hai detto Mi lascia attenti cosa vuoi ma è così ma se noi altri vogliamo guarire sul serio le vaghe del turno quelli di qui uscire facicini e quello zebbibo e quello zebbibo, vedi con la lia sapendola prendere ecco la lia poco a poco cambia ma anche sapendola prendere ma che io sarei provate cosa ha fatto una predica appositamente a tutti ma che predica? per un po' quelli bambini signore qui bisogna fare una campana gru ma non è vero non è vero io intanto voglio un po' sapere cosa trafega quelli due che mi hanno detto che fanno sippi sippi cosa fanno? cosa fanno? sippi sippi e cos'è che? e cos' ho detto sippi? sippi? vabbè fanno pi sippi pi si pi si parlo piano parlo piano parlo piano ho capito santo dio vedi che se non so tegnani in te coci vediamo studieremo dell'altro ma con l'azione dirò così violenta ma si potremmo tenere l'effetto ma io sarei per legnato non è vero legnate no perché la missione e la galera lasciano l'uomo come ma non è vero secondo i casi secondo i casi secondo i casi prima di tutto vi insegno che quando si entra in un locale che ci sono delle persone vi voglio dare il buongiorno cosa aspettate a imparare l'educazione bimba? bimba! e va bene buongiorno buongiorno donna non vi arrabbiate non vi arrabbiate che da arrabbiarvi potreste anche diventare bella non si sa mai di quanto poi ho la spesa per mangiare oggi nibba! eh? come sarete a dire nibba? nibba! nibba! dipendendo in tedesco nella casa in giapponese chichi chai ma chi te l'ha detto? te l'ha detto uno di me chichi chai chichi chai chichi chai chichi chai come niente 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 oggi si mangia fuori di casa e dove? fuori di casa dove? sul marcapiede Quando senti Viareggio? Sì. Quando senti Viareggio quella le... Sbatti in terra, sbatti... Quella lì dall'emozione, dalla rabbia... Vedi, vedi... Volete sapere dove andiamo a mangiare? Sì. Ti vedi, ecco, scuola... Vedrai che sbatti... Vedrai che... Vedrai che... Se state là ve lo dico. Chi? Ma non manca? Allora, un'altra parte. Ti vedi, ecco, sbatti in terra, ti vedi, ecco... Vedi, ecco, sbatti in terra, ti vedi, ecco... Vedi, ecco, sbatti in terra... Vedi, ecco, sbatti in terra... Vedi, ecco, sbatti in terra... Andiamo a... A Viareggio! A parte, a parte, a parte, a parte... Non abbiamo pensato a levare la tavola... A Viareggio, se capiamo... A Viareggio, se capiamo... A Viareggio, eh, a Viareggio... Viareggio... A 300.000, a quella... Ma trate se stanta... Eh... Sì... Vedi, andate, ritorno... Eh, ah... La facciamo due o tre volte... Sì... E lì, a credere che andiamo a piedi... Ma a capire... Andiamo in... E andiamo in automobili... Ehi... Che è l'automobile? Dicali un po'... Com'è quella fa, eh? Dicali un po' la... Che è l'automobile, eh? A me... A me... Una 40 HP... No... Non ha capito niente... È una 40 HP... Ha... 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 Ce l'ho... Ha... 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 A deccezione di voi... E' anche la signora? Ma voi... Ha... Ha... Vieni... Che mi ha messo in gingari... Mi dici... Come mi possa un po' mettere perché... Sì... non so come vestirmi ma è da un'automobile si si ci penso io mi dice che si abbia reso 300.000 km di stanza cosentamela non vorrei che fosse un paracaro io con l'altro di niente capisce? si capisce? si si, allegria già io quello francese da un lato posso fare tutto che mi andate un accidente e a chi? niente niente mi intendo da niente qui c'è la porta eh la metto qui ma come sei negra che ti arrabbiata questa mattina? qua niente no ho detto che no basta vai vedi un po' qui senti un po' dimmi un po' in paese non hai mica sentito dire niente e di che cosa? che la signora da un po' di tempo ha fatto un certo cambiamento ah che si fa un po' di coraggio ecco e che vai in automobili si? oh si questo si ma si capisce che ha da fetta ma cosa si crede anche la gente seggiorba ma dico che cos'è che pensate che dicono che faccia male? ma anzi domenega quando la signora lea usciò carlino uscivano dalla micca e beh ho sentito io due che dicevano che coppia quello si che andrebbe bene per la signora mica il morto brutta sfacciata chi è loro? e perchè? ce ne sono tanti i cugini che si sposano basta basta vattene voi mi senti cosa dicevano no? e io ve l'ho detto basta vattene e ci credo che roba che roba che scandalo che scandalo Filomena abbiamo delle novità ma ci ci pensavo proprio come vedilo come parlare e per cose? cose brutte tanto brutte tanto brutte tanto brutte benedetto il dio ma cosa le è successo? corre voce che la signora si torna a sposar e che ha sposar niente po' po' di meno che che venisse l'accidente a lei e a chi ci ha venduto la benzina per venire in Italia che orrore Filomena che orrore e oggi? oggi se ne vanno tutti quanti che ho sa dove a Via Reggio a Via Reggio a fare Valdorio anche la signora Lea anche la signora Lea e fare come festa di fidanzamento capito? qui bisogna assolutamente impedire che una cosa simile si verifichi qui bisogna agire energicamente molto energicamente sicuro sicuro penso a me brava Filomena felice giorno buongiorno 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 scandalo 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 eh scatta di rincomerito che non lo sapevo che per calcolare non mi fai fare no 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 questi questi poi questi poi semmai me li metto in macchina perchè allora va bene che si investe un po' la fara invece così già sai ragione se verso sera facesse un fresco comunque insomma stappo e ti dicevi tu e diceva che l'altra città che faremo occorrerà stare fuori tre o quattro giorni per lo meno sempre più difficile anche allora scusa se io faccio un po' il padrone del vapore come si dice le altre quattro è basso sempre le altre in quattro è naturale e anche quando voleva invitare mia moglie poi aveva invitato la signora io ho detto non ti interessa niente proprio niente levate l'inconveniente che è la moglie di quel tintorretto di suo marito ma non si può negare con l'ambello sempre è giustata bene i montanari tutto l'anno tutto l'anno tutto l'anno no se ne ritorna all'inverno c'è una palazzina a san simone sotto a rigli c'è una palazzina la posizione a san simone volevo dire se tutto l'anno è stata libera o chi ha qualcosa per me beh questa è l'uomo grazie secolo grazie secolo e questo anche ecco vedi questo è un paese che ti capita giù su tre secoli in te una volta è vero non mi sa niente cosa eh amite un po' queste cartoline sono a dire cosa di Nietzsche io guardo un po' che scrive di Nietzsche di Nietzsche di Nietzsche no questa no questa nemmeno tutte di Nietzsche no Nietzsche sarà vicino Nietzsche ma vuoi far sei se Nietzsche ah eh che c'è muo che c'è muo è Nietzsche Nietzsche bello dunque ah l'amico Ferrari l'avvocato l'avvocato che scrive l'avvocato hai qualche altro debito eh no che dovevo scrivere è una cosa molto sentiamoci io non pago eh basta io basta non pago eh 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 vedi che faccio eh eh che qualcosa no no non è un cliente devo andare a Nietzsche per un affare senti mi fai premura le signore perché viene troppo dove è dove la che mi ritorno datemi lo torno non riesco la pinnetta di Viareggio si incendia e ti saluto andiamo allo 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 all'alea 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 scusatemi ma ma io non posso più venire cosa c'è oh niente niente soltanto un po' di mal di testa c'è tassieme mal di testa sì sì anzi ero andato un po' in giardino per vedere se un poco d'aria io non ti ho fatto niente eh no no non mi ha fatto niente e allora vado un po' sul letto vado un po' in posta si fa la gita scusa è l'ora di andate andate senza difesa no no la gita è fatta esclusivamente per te no 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 è impossibile cari no ma lei ha fatto un po' di coraggio vedrai che l'aria lea guarda a me guarda se ti guardo ti guardo ma non è possibile no no io senti o più possibile no no arrivederci eh arrivederci arrivederci cari sia ci non c'è qualcosa da dare qualche qualche calming sì sì il calming devo avendela ma te dico avete che mi fa fino a impulsare anche a me calma eh maracomando calma 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 eh ma cosa dico calma mi ti sapevo calma corso ma vai pazienza sarà per un'altra volta posso che devo fare calma 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 levo a rimandosi l'imperatore della scalogna E lui, a lui che prega che non me ne vada una, a lui, a lui, a lui. Non, 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 c'è, niente. non ne faccio molto ma il prego può pregare tanta volta la paura la paura la superstizione e superstizione grazie grazie ma che paura e quella lì non ce l'aveva nemmeno una poligione e ora? ma è che se la pensa che davanti vivo che fa il naso come un paraguai su così ce li ho presi tutti e tre nella terra dei limoni cosa? a filumena un su bacicino e la signora davvero? sa che forse qui si va a scoprire l'arcona quando è stato? pochi minuti fa e hai mica sentito quello che dicevano? si ma semmai io non ne ho colpa eh ma che figurati anzi quando te sposi ti regalo un vestito tutto da sé oh grazie suo padrone quando te sposi si si quando mi sposo eh spedassato? ce l'ho bisognerà informarsi di quale individuo io perciù saltina sentiamo su prestatino dunque che pochi minuti fa ero lì nell'orto che davo da bere all'insalata si quando tu t'assemme ti vedo su bacicinco vene quaccio quaccio e si infila nella serra dei limoni ci siamo ho detto difatti dopo un poco arriva anche la filomena con la signora e si infilano anche loro nella serra all'uamì ingatù tenendomi un respio mi sono avvicinata tanto che ho sentito tutto bravo 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 dunque che da quanto inteso dicevano che la signora Lea doveva venire a fare una una spasseggiata in quell'automobile si 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 oh e anzi la signora ci veniva volentieri eh ecco ma poi loro hanno cominciato a diggene tante poi tante che la signora Lea ha la smio con l'impromettica di non venire ci hai capito? 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 hai visto cosa hai fatto con le tue prediche con i tuoi discorsi? ma che prediche? ma che discorsi? caci più nelle nate? non prendertela con la maniera ma come me lo so calma ci vuole la calma calma bisognerebbe a prendere non so del latte nelle vene mica tu sangue prenderla con calma ma giustissimo ho la ragione ha la gente quella lì da bruciare ha la gente da bruciare viva e poi le gnatte ecco ecco a scadiga la testa anche ti ma lascia aperte certo perché le no vergogna non so posso anche io e non ho mica ancora finito no? non l'ho mica ancora detto cose che sono messi in tassuca cosa? ma dà di fanno da via usciò carlin da chi? sì mi da via da chi? aspetterò l'usciere per lo sfratto oh meschinettina ma quali sono ti vedi che sono io lo so io lo so sono io mi sono a rovinare proprio chi in tutto il peso e chi dovrebbe fare sloggiare il signor carlin è la signora Lea la Lea Lea sì oh la signora da principio non ne voleva sapere ma poi si capisce con tutte le malignità che hanno detto d'entendere con storie tutte storie perché sì un paese potranno dire che la signora Lea o Schu Carlin potrebbero anche essere una coppia come se che dice di quelle baciocche ma non c'è mezzo cristiano che possa dire male e allora cosa è andato da sempre eh discorsi si intende che ho insomma tra la signora Lea e il signor Carlin ma scarsin debiliacchi mica Lea ma scarsin che mi se mi se se bravo bravo ha scarsin il tempo anche te bravo 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 hai visto 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 con che genna arriva la campagna e ti vado a fare dei discorsi vado a fare le prediche ho me la fatevo ma fammi cosa me la fatevo lo so io il bastoncino il bastoncino dove fai con quel bastoncino non lo so ma la mattina faccio la faccia degli innocenti ti prometto che mettere le cose a posto che pensi ma scende quelle prediche quei discorsi ma ti vado a testa quelle prediche quei discorsi ma il cappello è un po' parola ti dago parola che ne sciurtiamo e senza bordelli parola parola dico vero su padrone noi non ci siamo visti noi non ci conosciamo ma se insieme al vestito di seta tre paio di calze di seta oh grazie intanto tre secondi sentimi ti avviso che se il tuo diremo specifico non mi convince io mi attacco un'altra volta al santo di legno è d'accordo sentiamo perché è una pratica che mi fa piacere vedi che testa è così sentiamo a mia perota non commette delle leggerezze mi posso fidare della tua serietà dico questo perché si tratta di una cosa molto delicata che la lea non deve venire a sapere e appunto perché deve essere tenuta segreta fra me e te si farà un piccolo un piccolo sacrificio piccolo sacrificio si cioè ecco può darsi che noi altri per non vederci costretti a fare certe confessioni sarà necessario fare finta di aver riscosso del danaro e tirare invece fuori noi altri e dall'altro argent no 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 hai detto scusa hai detto tirare fuori dell'altro argent oui hai fatto bene a dirmelo a un francese così non ho capito niente va bene questo qui ne parleremo dopo ne parliamo più non ne parliamo più va bene non ne parliamo più senti intanto mi pigio questi due signori Filomena e quell'altro perché fassi un discorsetto semplice semplice cioè o voi altri confessate alla lea che è tutto quello che hai detto da intendere non è altro che un sacco di bugie e finì una volta per sempre che ne scia venti feti so o io dico alla lea chiaro e netto cosa? te? questo è quanto mi scrive l'avvocato avvocato? cosa c'è in flore? leggi e vedrai caro Carlo si ricevo in questo momento la nota dettagliata dei prelevamenti fatti dal defunto marito di tua cugina nei grandi magazzini e Dio che disastro poi se le bruciote vai avanti immagina che il famoso credito viene ad essere completamente assorbito ad eccezione di poche centinaia di miliardi di lire e il peggio sia che si tratta esclusivamente di generi da signora cosa l'è? vai avanti vai avanti vedi bene dunque che quel vago sospetto che mi era subito nato da un primo sommario esame dei libri è divenuto purtroppo certezza è divenuto purtroppo certezza ecco e cioè cos'è? arriva in fuori ah ma qua in quanto è del... ssssshh che ti sentono di là dallo taglio quanto è? sì in quanto è eh? piacchia piacchia da escludere nel modo più assoluto che tua cugina possa aver avuto per sé tanta roba e di così rilevante valore conclusione dunque e lì che tanti puntini tanti puntini hai capito? no ma come? ma se tutta questa roba ad un valore di qualche centinaio di biglietti da mille non l'ha avuta la Lea ma vorrebbe dire che sarà andata a finire nelle mani di qualche di un'altra ora siccome non è ammissibile che si possono regalare centinaio di biglietti da mille per puro spirito d'altruismo non mi pare azzardato posso supporre che questa qualche d'un'altra sia una aveva una donna aveva una donna e per le donne che si può essere che si possono regalare che si possono regalare è nato il signor fichi secchiere per la donna che si aveva nato aveva una moglie che aveva un fiore aveva a baciare dove è passato o aveva ancora col colo storto l'antichinoso e voleva anche vedermi morire adesso vorresti levarmi la soddisfazione di te scruvigli vorresti che io tirassi fuori dell'altro agli anni per non far sapere a sua moglie con che canarino da ghionde aveva fatto niente, manda vizio, voglio vederlo nudo voglio vederlo a terra e questa sarà la mia vendetta ciò c'è, Nesoli, tanto brinconi cosa c'hai? di me poi non volevano farti passare la porta potremmo passare la finestra tetra' al capa ma si va venire canincapelo basta venire l'ampage 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 delle iniziare l'ampage la l'ampage l'ampage 12 ottobre, mantello con Bavero-Lontra, lire 250 mila, roba caro Carlino che io non ho mai avuta. Cosa vuoi che ti dica? E da questo sai possiamo farti un'idea di cosa le veniva a costare quella donna? Lea, sei pronta? Fate prezzo, se no voi perdete messa. E già non come perdete? Dieci minuti e poi sono con voi. Una letterina, poi dobbiamo. Se raccomando. Non andate, non andate. Dove è andiamo a mettere? Oh va bene, bravo, il nome Maria è anche per me. Se raccomando. Però quella lì è ancora qui, come mai, come mai? Però sulla strada, sulla strada ci siamo, ma Carlino. Carlino, Carletto, Carlino. Cosa c'è? Abbiamo delle grandi novità. La faccia è più lustra del solito. Allora, mi ho cominciato, ho iniziato un affare che se va bene fino a... Sì? Mai, mai visto, mai, mai visto me, se mi va bene questa faccenda qui, voglio prendere una sborgnettina, una sbronzettina, che deve durare dai dieci ai quindici giorni. Dai dieci ai quindici giorni SC. SC? Salvo complicazioni. Non tanto per guadagno, sai quanto, per non essere stato un anno inutilmente ai venti molti, per quale individuo io. Ma che genere dei affari... Figurati che sono qui, sono lì per vendere la villa. La villa? La villa è... La palassina tutta. La palassina tutta. Ma ma dico, è una cosa seria. Eh, perbacco, il compratore è già qui. Aiaiaiai, il compratore è già qui. Guarda che l'Alea di tornare a Genova pare che non abbia idea, non vuol vendere, non vuol vendere. E noi altri dobbiamo, dobbiamo perdere una buona occasione, non andare avanti a tribù. Guarda che, niente, niente, niente. Zio c'è niente, niente, niente. Se non vorrei a ritornare a Sena andremo a stare a Milano, a Torino, nell'Asia, nell'Africa, nell'America, nel MSPP dove vuole lei. Ma io qui non ci capisco più, tra tanto se puoi guadagnare qualche, qualche centinaia di biglietti, almeno lo so. Sì, centinaia. Non è un uomo da perdersi sulla cifra. Ah no? C'è un pesce con, ti siete quelli che, vabbè, quindi, eeeh, si pareva, pare che abbia un negozio di immobili. Ci ha tirato fuori tanto da quello, però anche, da quello dove non è più capace a contare. Eh, prima, 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 prima. Allora, prima, prima. Nel meno più capace. C'è quel signore per vedere la palatina. Alla, lo fosse in tavola. Lo fosse in tavola. Lo fosse in tavola, lui. Lo faccio la patata. Ah, ah. Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Il signor Fausto Capiglia. Ecco me. Ecco me. Oh, piacere. E scusi se ho fatto un poco di contusione. Ma si è fatto male? No. Si è contuso, ha fatto la contusione. Confusione, vuol dire confusione. Ha detto contusione. Avrà sbagliato. Eh. Eh. Dimenticavo. Cavaliere Leoni da Roncagliolo e Emporio Mobile di Genova. Eh. Piacere. Mio nipote. Carlo Corradi. Pittore Sbaglio. Cosa? Oh, piacere. Anch'io mi vanto di essere un mecenate degli artisti. Cosa? Cosa? Cosa l'hai degli artisti? Lascia perde, vuol dire mecenate. Sì. Di che dici? Sì. Eh, succede. Ma poi posso. Vuol accomodarti? Grazie. Signore Tortarolo. Oh, oh. Cavaliere Leoni da Roncagliolo. Scusi per i nomi e per i... È strano eh. Per i nomi e i numeri. Cosa? 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 Eh, ho capito. Manca un poco del senso della fisionomia e quindi soffre di amministia. Amnesia. Ha detto amministia. Eusso? Di che dici? Sì. Succede. Ma poi passa. Il capullo capellone. Lascia perdere. E vuole accomodarsi? Grazie, grazie. Dunque, che io mi trovo con sti mandatario, diremo, del fattore, per una visita di preambolo per l'improbabile acquisto qui del maniero. Del maniero? Eh. Maniero. Ma che maniera? Senta, forse di villa, per la villa, per il posto, qui la palazzina. Sì, sì, appunto, appunto. Ah, la villa. Ah, la villa. Ma che maniera? Eh, sì, 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 è per papo. Eh, scusa. Ma non è lei qui il detenturo e qui della villa e di tutto il suo limitro fu circostante terreno? Eh. Dica adesso. Sì. Sì. Sì, sì, succede. Sì. Sì, sì, succede. Ma poi passa, ma almeno capisco niente. Ma come? Mi fa venire male? Sì. E un capello, il capello... Il posto, diremo il posto, lei l'avrà girato, avrà visto che si tratta veramente di un piccolo paradiso. Eh, sì. Se lei verrà a stare qui, caro signore, vedrà che lei, se verrà a stare qui, non si dimenticherà mai più di avermi visto. Vedrà, vedrà, caro signore. Pescarolo. Caro signor Pescarolo. Vedrà che... Roncaglione. Roncarolo. Sì, sì, scusa tanto. Eh, ad aria, come stiamo? Bene, grazie. Sì, insomma... L'aria. L'aria c'è. Eh? 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 Ma ce n'è, sa? Eh? Eh? Sono dei giorni che c'è anche il vento, che porta via il capello. Oggi non ce n'è. Ah! Non è mancata. Insomma, l'aria c'è. Eh? Guardi, e le garantisco che non è mai mancata l'aria qui, anche per dire venuto. Eh, vedo che ce l'eccitosto ilare, faceto, simpatico, eh, ridicolo. Vuol dire risivo. Ridicolo. Ridicolo, risivo. Ma com'è? Non intendevo certo trovare che aria... Mettifica. 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 Mi posso dire... Sì, sì, ma... Vedi come è aria? Dico dal momento che lei è qui. Eh? Le garantisco che è buona, è buona. È una... Garantita. Ecco, garant... Aria doppio zero. Per dire... È un'aria questa qui che è veramente buona. Guardi, la vengono a prendere anche dagli altri paesi. Eh, ma che simpatico! Che ridicolo! Insomma, aria salubre. Salubre. Sì, sì, ma guardi già che è qui intanto per non ritornare. E qui l'aria c'è, se ne prendi. Sì, sì. Una buconata da salubre. Sì, sì, sì. Ma vedi che è un'aria, guarda qui, caro signore, con quest'aria. Il suo calibro dato, anche, non lo so, l'autometria, tutto. Lei può tenere... Ma può mangiare quello che vuole qui. Lei può mangiare quello che vuole, vedrà che andrà tutto giù che è una bellezza. Vedrà, 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 caro signore. Bene, bene, bene. Caro signore per loro. Bene. E il cappello non se lo leva. Bene. Bene. Infatti, se mi sono addotto all'acquisto della villa, le appunto perché la mia signora è di salute alquanto indecisa. Ecco, i professori ci hanno proscritto aria il più possibilmente, diremo, ossidrica, per il ristoro dell'organico. La sua signora? Mia signora, sì. Ciao, quale... Eh... 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 Ma... Beh... Eh, guardi, è fatto bene, sa... portarla qui, la sua signora, per se lei compra questa località, perché qui realmente c'è un nerdy a che... Mi pare di aver capito che la sua signora c'è qualche cosa... Eh... Scamico... Eh... Vero, eh... Eh... Se poi si vuole levare il cappello, non faccio complimenti. Grazie, ma non mi dà fastidio. Ecco... Insomma alla sua signora c'è qualche cosa che non funziona. Eh... Ha fatto bene. Ha fatto bene. Eh... Guardi, la sua signora se non guarisce qui, in questo posto qui... Eh... Può fare quello che vuole da quanto mi ha detto, ho capito, ma... Io... Eh... Eh... Ho capito che è vero, la sua signora non guarirebbe neanche se la mandasse a curarsi, come se capisci... Eh... Non so tanto per parlare come parla lui... Se la mandasse a curarsi, non so, in un... Eh... In un bacino di carenaggio... Eh... 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 Ma che simpatico! Che ridicolo! Oh... Se crede eh, signore... Eh... Signora Pleolo... Eh... Se crede io le faccio visitare la palasena? Eh... 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 Questo qui è un ambiente che d'estate è un frigorifero! Oh bene! Ma strano! Bene! C'è un tale giro d'aria fresca! Oh bene! Aria fresca! D'estate, aria fresca! Che non si sa bene da che parte arriva, ma me l'hanno detto, ma ne bisogna dire per via, non so... Della Tugana! No, no... No, no... No, no... Eh... 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 Un'aria fresca che viene dalla Svizzera! Oh bene! Bene! E poi... E poi invece d'inverno c'è un tale giro d'aria tiepida! Ah! Aria tiepida che viene da... M'hanno detto anche quello lì che viene dall'Africa! Ma... E' una bellezza che è! Oh bene! E' una stufa! E' una stufa! Io sono stato qui, non mi ci sono stufa! E' una stufa! Se...permette? Sì! Allora le faccio visitare questa parte della palasina che è esposta tutta a meso giorno! Già di qui! Alle 12! Eh! Dicevo che questa parte della palasina è esposta tutta a meso giorno! E' ho capito! Alle 12! Manca 20 Si vede che ce l'ha avanti Io dicevo, scusi forse non mi sono spiegato Che questa parte della palacina è sposta tutto l'anno a mezzogiorno E ho capito, alle 12 Si è fissato Ci sediamo, se vuole che guadagniamo tempo andiamo subito Andiamo subito Così vediamo cosa fa E permettendo faccio seguito all'infitrium Ma ma da pure si accomodi Permesso? Avanti, avanti, avanti Oh signora lei, come va? Bene, lei? Non c'è male E le signore? Oh se sono già incamminate già 10 minuti Oh me rincresce proprio Ma cosa ne è successo? Ah niente, ha levato i quadri perché che aveva detto da mandevernigi addosso, vero? Ma hai le fotografie? Si sono misse nel salotto perché col sole scolorivano, capirà? Sia comode signora, prima Grazie Lei è stata un po' di tempo in città, eh signora? Ho già 3 o 4 giorni, commissioni, arrabbiature, tra la modista e la sarta mi hanno fatto fare tanta di quella bile A momenti siamo i santi Si che c'è la propria deciso per dopo i santi Ah sì sì, imprologabilmente Ecco È da luglio che siamo in campagna, mi pare che basta Anzi mi amira la sua resistenza E tutti gli anni ci vengono su tanto presto così No no no, veramente questo è il primo anno? Volevo ben dire che sono una signora elegante, dei bonpons, come lei, sempre tutta, sempre Che bello, fazzolettine originale, quel disegno, sai io sono un po' Permette, guardi Prego Scusi, sa? Eh sì, guarda, questo Eh sì E che profumo Ma che profumo, eccellente che questo Eh, lo conosco, eh Eh, altro che questo, aspetti, aspetti Damma verde Eh, damma verde Eh, damma verde Eh, per bacco, lo so Non capisco come Come? Perché l'ho usato per tanto tempo Sì Ma oramai Ne avevo ancora qualche flaconcino L'ultimo l'ho terminato che sarà due settimane Ma vede che non mi era sbaglioso, siccome è un profumo molto resistente Il fazzoletto ne ha ancora conservato la fragranza, capisci signora? Per bacco che ho dorato il vino Eh sì Come un cane da caccia Ma un certo maso, signora Sarese Ciao, ciao Ciao, ciao Avrei bisogno Buongiorno 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 Sì, penso io Eh, signora Avrà bisogno di parlare con mia nipote Prego, prego Penso io, penso io Facciano pure, facciano pure Ma forse non mi sono spiegato molto chiaro Bisogna parlare con me A parlare con mia nipote a quattro cose Scusa tanto Oh, quindi sono Questa mia delicatessa Scusi, signora Vado incontro a lei e alla signora Alvina Rivedessi, signora Rivedessi, professore Sì, per un'altra volta Hai visto? Grazie Hai visto? Hai visto con che arte Ah che arte? L'ho fatta a svolgere Arte Te stun che ti ne ha, tro arte Tre volte ti ho fatto segno Vattene via Vattene via Vattene via Senti, volevo offrire una specie di rinfresco Al signora Roncaliolo Uh, che questa volta l'avrei detto L'avrei detto questa volta Ma l'hai fatta Ah, fattere L'avrei detto Se lo dico una volta Poi non lo dimentico Dove hai lasciato il vicino? E' sulla terresta Sulla terresta Sulla terresta Vedere le uga Dice la panoramica Ma l'hai fatta a pesce 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 Non lo sai sa Dimmi un po' Di quel vino bianco Che hai portato Ah, quel famoso Puglia con il cebù Non so, lo sai bene Ce n'è mica ancora Non credo sai Non credo Oh, che peccato Uh, però, però, però Guarda Ecco la cima Oh, bellissimo Oh, bellissimo Tira di su Sì, via Perché voglio 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 farcela passare Oh, peccato che c'è l'etichetta Che porta? E non porta Perché ce la voglio far passare Per vino Quei del posto Non capito Non ce la fare a vedere L'etichetta Adesso Accomode Accomode Signore Sbordellolu Grazie Grazie Mi ha visto? Ah, sì, sì, sì Bisogna dire a Cesare Quel che è Cesare A panoramica Le vistusa Spassiusa E bisogna dirlo A Cesare Adesso ce lo mandiamo a dire Ah Ah, ma che scherzoso Sì Cosa Santina Sì Vedi un po' se c'è uno giù Con una faccia Da Cesare Non so Da Cesare C'è uno che si chiama Domanda C'è qualcuno che si chiama Cesare Se mai ti goditi Dici guardi C'è il signor Brulolo Che è contento Perché dice Che è spazioso Che è Ti dicalo Ti dicalo Cos'è È bravo Adesso Le faccio assaggiare Un dittino di vino Ma un dittino di vino Grazie 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 Ma mi proprio Grazie No guardi È un vino Che si fabbrica Con la vigna Qui del porto Che lei ha visto In modo che se lei Fara questo del terreno Lei comprerà anche naturalmente Le piante di vigna E vedrà Così Poi viene l'uva Lei sciacca l'uva Sciacca l'uva Sciacca l'uva Sciacca l'uva No No Grazie Grazie Ma mi sono alquanto Astemico Non è il caso Astemio Non capito Cos'è Astemico Non è il caso Ma bevendo le passate Beh Sentirà Sentirà Cavenetto Le servirà Da aperitivo Beh 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 Allora Pino Una lacrima Una lacrima Una lacrima Una lacrima Una lacrima Una lacrima Eh sì che ne ha dato troppo Volevo Ah che vigno Stumachevole Eh Veramente Stumachevole Ma sei da Ah Mi dimenticavo Scusi Alla salute Alla tua Alla salute Del signor Che vigna Eh Ma che vigna Eh Sì 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 Dunque A villa Tanto come ubicazione Dei posto E ambientazioni Divani Mi piace Ma C'è Il manchevole Ma Il prezzo È piuttosto Esuberante Il prezzo Sembra Non lo dica Non lo dica Non lo dica No guardi Non lo dica Eh sì sì Eh no guardi Non è caro Eh ci rimetto Sì Guardi ci rimetto Ci rimetto Non so Non vorrei più Vederla Più o meno Guardi No no Dicco poi Il fattore O che vi ha ben dito Spiegato tutto No E allora Insomma Meno parole E vediamo i fatti Se lei Non è riluttante A difalcare Dalla cifra Globale Qualche cosa Come 200 mila lire Ai primi Della settimana Si stimola Il contratto E la pratica E la chiesa unita Insomma Lei vorrebbe Levarci 200 mila Non se Mi dispiace Proprio sapesse Quanto mi dispiace Ma non ce le posso Levare Ce le diamo 50 mila Oh Ciccotto Ce ne leviamo 100 mila Ciccotto Cosa 150 Non posso Cosa ci rimetto Ci rimetto Te lo giuro Te lo giuro Ci rimetto Ci rimetto Te lo giuro Te lo giuro Non vorrei più Non so Ci lo giuro Sono l'anima Di mio genero Guarda me Da bene Da bene Da bene Una lacrima Una lacrima Una lacrima insomma vuol dire che invece di 200 mila avremmo una deduzione di 150 50 mila lire in fondo non è che una miscela si chiediamo transito fai la bolletta qua c'è no però prezzo si intende a cancelleria chiusa vuole mica due uova dure scusi c'è una cosa che non abbiamo capito bene noi non siamo a giorno con l'affare della cancelleria chiusa povera si chiudono i cancelli e di tutto quello che c'è dentro non deve uscire niente ah si siamo d'accordo mobili mobiletti strassi gli oggetti d'affezione sono cose che vengono spontanee scusi un po anche queste sono dipinture qua se le vuole quelle lì ce le lascio nella cancelleria perché anch'io sono alquanto passionista dei quadri faccia che roba cosa che abbiamo trovato attaccata ai muri al momento della questa eppure quella lì è una visuale che non mi è nuova un altro debito cosa e altro che e questo qui è quello è un altro è un altro guardi sono passati dei secoli dei secoli poi chi l'ha risturrati o l'ha fatto tutto ma ci sono passati dei secoli ma hanno detto che era cognato di cosa? ma hanno detto che era cognato di cincinato cincinato? no veramente non è mi ricordo adesso è belisario belisario guardi che non è possibile non mi è nuovo ma non l'ho mai conosciuto peccato perché se era l'individuo di mia conoscenza dia da trattare magari in sociale una combinazione peculiare su quei quadri lì? su quei quadri lì? perché se era l'individuo di mia conoscenza si sarebbero offerti a sua sorella sua sorella? eh sì perché lui aveva una sorella quello che dice allora non era lui non aveva sorella non aveva sì ma non ne aveva sorella te lascio parlare ma sorella non ne aveva aveva un cagnolino un barbocino si favevo capire sarebbero offerti a sua sorella e quindi trattandosi di un fratello sorpassato eccoli avrebbe acquistati tassativamente si ha detto che era un avvocato si avvocato si si ricorderanno quell'avvocato che si è suicidato personalmente adesso il nome non ricordo ma so che aveva l'ufficio in vialuccoli in vialuccoli perché l'ha conosciuto? no lei non mi ha conosciuto la sorella non ne aveva aveva un cagnolino non ne aveva un cagnolino sorella che è venuta nel mio emporio per via che l'estinto aveva provveduto è vero all'arredamento della palassina in San Simone in San Simone in San Simone in San Simone e ha detto che era un avvocato avvocato l'ufficio vialuccoli vialuccoli ho capito ho capito l'ha conosciuto? no lei non ma ha conosciuto perfettamente la sorella la sorella la sorella la sorella è una bellissima ragazza si 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 altro che oh bella bella oh che ha molto affezionato questo fratello io non l'ho vista ma ho sentito dire che una palazzina è così ben arredata oh in un modo veramente scicchere ecco ovvio veramente mi dica un po' una cosa questa palazzina di San Simone che numero ha? beh il numero non ricordo ma so che era una palazzina di tinte rossiccia 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 con le finestre a forma ovoidà ecco di tinte in giallo allora è la palazzina è la palazzina è la palazzina doveva coperarla poi per un pasticcio di mediatore dica un po' signor Roncariolo come si rimane intesi per questo compromesso diciamo eh senta domani alle 5 a Genova sì in piazza banchi prospetto la lotta domani c'ero le 5 la loggia di Banchi ma che è la palazzina ma che è la palazzina è la palazzina e resta concretivamente combinato domanda 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 non manda combinata arrivederci arrivederci signor Tagliavacca arrivederci molto divertente vabbè uuuuui un cuore capito mi spiega è la moglie del pintoretto che l'ho mandato a Guadano e mi macarrun 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 macarruna piano di raccolta che non l'ho mai capito mai capito non l'ho mai capito mai capito mai capito tutto questo uuuu adesso si spiega l'andamento della famiglia e si uuuu ecco lo becca figo del marito ecco fu c'anzi non ci porta ancora i fiori al cimitero a Schiavalier Schiavalier ne ho piacere ne ho piacere che sia nella congregazione dei mi fa piacere mi dispiace una cosa che cosa che non lo sappia mi dispiace che non lo sappia lo sappiamo nessuna importanza oh ma eh oh ma se mi capita l'occasione ce lo dico ma non ne vale la pena non ne vale la pena no ce lo dico ce lo dico velatamente ma anche velatamente cosa ti dico velatamente ma no però però ti la lea la lea è un'altra cosa la lea ci può anche dire è domani il tempo necessario di fare i bagagli facciamo tre questo si ormai la vostra permanenza qui ma non è più compatibile anche lei metterà la parte di scrupoli voglio sperare adesso a me sarebbe venuta un'idea ora l'idea il giorno bravo carlino vai guardate sono casi di forza maggiore di forza maggiore si se avete voluto dicole un po' di barba sono degno di scusa si o no no hai detto hai detto ecco no non è degno di scusa sapete perché non è degno di scusa perché è degnissimo ecco degnissimo di scusa ha fatto una scoperta una scoperta ha fatto una scoperta ha fatto una scoperta quello lì e Cristoforo Colombo potrebbe un'altra volta prendere il cestino e andarsene all'asilo cosa hai scoperto? ma cosa hai scoperto? ma cosa hai scoperto? ma cosa hai scoperto? ma cosa hai scoperto? che gli eventi sono maturati stavolta lei ha si è scoperto chi era la colombella di tuo marito ecco cosa hai scoperto? papà oh dio e chi era papà? chi era? chi era? la vostra carissima amica carissima amica che è tutto il giorno più a casa come ha spacciato è venuta incontro a me è venuta incontro a me è venuta incontro a me proprio lei proprio lei proprio lei ma ma di me un po' come avete fatto? allora scopritore eccolo la lo scopritore guardatata l'ho guardatata l'ho guardatata adesso ho preso una cosa che sembra Masini ma è Cristoforo Colombo questo è preciso ma insomma come è andata? come è andata? a me un primo sospetto mi era già venuto fin da ieri sera controllando la nota dell'avvocato e la corrispondenza di certi oggetti che aveva visto addosso però siccome si poteva trattare di coincidenze casuali occorreva fare delle indagini un po' serie prima di condannare una persona ecco perché poco fa quando era qui io cercavo di ah mi ricavano la certezza poi è capitato qui signor Roncaliolo e da qui abbiamo avuto la prova schiacciante e chi è il tuo Roncaliolo? chi è? e niente meno quello che ha fornito l'ammobiglia al tuo signor Maris si per ammobiliare la palassina a San Simona la tua caresta hai capito? oh ma altro la palassina le ammobiliare la palassina e come bene? ma sopra chi mi segna? ma dimmi poi una cosa cosa è venuto a fare qui questo signore che rimposti che rimposti l'affare che ho combinato io ahah guardate che salvia Cristoforo Colombo io sono Amerigo Vespo eh e quello che comperà? ci ho venduto palassina a Villa il cuo da gnovatoso qualche centinaio di biglietti da Milano ma cosa hai venduto a tutto? ma andiamo ma andiamo era più possibile restare qui ma e va bene papà ma anche ritornare a Genova senti un momento dimmi un po' una cosa professore cosa c'è? quando faresti conto di ritornare a Nissa perché scusa perché? niente ti ho fatto una domanda e tu prima della fine del mese devo ritornare niente la fare mi ha fatto sentire ma hai detto un momento ma hai detto che a Nissa c'è un appartamento con tanti di quegli buoni guarda guarda lo dici tu sei no? davvero? si per il momento poi in seguito qualche santo provvedere ma davvero papà si mi pare di sognare 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 si e beh io papà e allora la pratica esaudita come dice il signor roncagliolo si dice roncagliolo e bisogna darcela fa gioia se si è divertito lui adesso bisogna divertirci buongiorno che notizia buongiorno 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 a tutti signora la signora l'ho fatta di corsa che notizia buongiorno 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 no velatamente velatamente eccola qui il signor beccafico beccafico no pardon bastico sicuro? no sicuro pare che deve essere beccafico anzi faccio una cosa appena su tre giorni di tempo se ne vado in municipio all'ufficio anagrafe ce lo dica ce lo dica guardate che a suo tempo c'è stato uno sbaglio d'amministrazione ma ce lo dica io non sono baffico ma bensì beccafico ce lo dica vedrà no velatamente 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 anzi l'uomo se lo dica bisogna grattare lì e metterci beccafico anzi lasciate perdere il fico e lasciate il resto ecco dicolo così eh ahahah 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 bella ta menta eh si scusi eh io non capisco ma non penso non capisci non ha capito non ha capito Ma niente, niente, mi dica un po', ma piuttosto che cosa è successo? Signora, vittoria, vittoria completa, ma sì, torno adesso da Milano, sono stata a parlare con gli eredi, la tomba che è vicina a quella del povero Giulio, la tomba è a nostra disposizione, una tomba a nostra disposizione, ne approfitti e vado con i carci sedenti, ma io intendevo per la signora Ma la signora ne fa una girata, prima di tutto perché ha idea di scavare, poi mi dico un po', signor Becca piccolo, mi dico un po', non ha diviso tutto con lui quando era vivo, dico tutto, e allora quello è il suo posto, si dividano anche l'ultimo giaciglio, e? Ah, e ho capito, e sì, ho capito, povero Giulio, non ha capito niente, non ha capito niente, ben tanto quello lì, è andato Eh, beh, senti, quell'altra è meglio lasciarla per, papà, papà, ma piuttosto alla Filomena, alla Filomena bisogna pensarci E c'è la Filomena poverina, la Filomena povera vecchia, bisogna pensarci, non so, tanti anni che è con noi, anche per non avere guai con i sindacati, bisogna pensarci Oh, ho trovato, non ha detto di voler comprare a cancelleria chiusa, con tutte strasse che vedrete, se la lasciamo nel contratto, 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 se la lasciamo nel contratto Grazie 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 Fatti coraggio, fatti coraggio cari Scho Faustin, buongiorno Buongiorno, buongiorno francese Scho Faustin, buongiorno Buongiorno anche a lei, grazie Comodi, comodi Grazie ma è già tardi Abbiamo voluto accompagnarvi ma dobbiamo andare Ma un momento in solo, tanto per prendere un poco di respiro Sedetevi, sedetevi È stata una cerimonia come ventissima, Scho Faustin Un busto somigliantissimo, vivo Ma povero Giulio A volte si ha l'impressione che il marmo si abbia da animare E sentire ancora la sua voce Quella sua bella voce baritonale Sì, quella pilota Ma povero Giulio Quello che era un amico Ma Cicin Oh scusa, non ci pensavo Ma perché Parlare di lui è un conforto, no? È specie sentir parlare da chi come voi altri L'ha conosciuto a fondo E ha potuto apprezzare tutte le sue buone qualità Nessuno più di noi ha potuto apprezzarle I nostri affari li amministrava lui E come bene È vero Zahira? No La verità È così È proprio andata così . È vero Zahira Percato... percato che non abbia saputo amministrare bene il suo Come lo amministrava Cosa degli altri E meno di voi Ma pare che qualcuno si sia approfittato della sua fiducia Ma sì È stato certamente vittima del suo buon cuore E poi se sa come si cede Questa pampertuso se ne fai un altro è proprio andata così chissà che ora sarà Bacicin è ora che andiamo torneremo semmai dopo colazione eccoci bravi ma tornano presto prima bisogna che io scriva quella lettera e passi dalla sposta per fare la raccomandata a proposito signor Bacicin mi raccomando non può figurarsi signora non fosse altro che poter ricontracambiare in qualche modo tutto il bene che ci ha fatto procurando così un piacere a quello che è stato il compagno della sua vita ma le cose e te lo diranno dopo colazione stagli in pochi stagli comodo comodo ecco si tratta di vedere se è possibile che la signora possa avere la sua tomba vicina a quella del suo povero marito senza dover ricorrere all'esumazione di lui dato che dove riposa è la più bella posizione del cimitero c'è quel bel fogio letto davanti c'è il fogio letto davanti che posizione ogni tanto può venire fuori e prendersene uno fiore cimitero e ci portateci un bel paio di penoccoli così qua lei o la mia mendica un po' signor tale quale poi le spese per questi trappassi chi le fai qua lei? Fausti se sarà necessario davanti alla fortuna cimitero ma lascia perdere mamma tanto lo sai che io e il papà abbiamo dei modi di vedere tutti differenti figliola non si tratta di modi di vedere si tratta di non essere sceme in modo da bisogno perché non ne ho tirato fuori abbastanza di biglietti da mille prima per prima per levarmi le gioie d'impegno ma dillo dillo pure ma sai è già tanto sai che me lo ripeti ma guarda d'ora in avanti io non ti domanderò più niente hai capito? d'accordo qualche modo d'accordo ma giusperò doveva giusperò una carta volata subito d'accordo basta che te ne facci sempre a corso baci cim grazie grazie ciao Faustin salutarla ci conservi sarebbe un delito per la rosa se lei è partita dimenticavo cosa dimenticavo cosa che è? dimenticavo di salutarla mi saluti arrivederci ciao ciao caro ciao Grazie a tutti. Se si trattesse di andare a ribottare con gli amici, allora il signorino non guarderebbe a spese. Ma per... per cagn... per cagnamarsi. Faustino, nausea mi fai, nausea. Vina. Schifo mi fai. Sì, ma davvero che non sei altro, eh? Una asciugadrone? E cosa fai? Ah niente che non stavo una preghiera. Oh no. Eh. E il signor che cerca di lei? No, che vado a farsi friggere. Come? Che vado a farsi friggere. Anzi, per guadagnare tempo ti chiede... E dai l'olio, così va a farsi friggere. Non ci sono, non ci sono, non ci sono. E ora vai. Mi cosa dì tu che c'hai? Hai fatto male. Adesso vai di là e dici, guardi... Sa, c'è uno che assomiglia tanto, sa, a lui. Ma lui non è. Eh, ma se gli vado a dire una cosa così, io mi pigia fecema. Eh, non sbaglio nemmeno, vai, vai, vai. Ma si può sapere più, eh? E il nome gliel'ho chiesto, ma non me l'ha voluto dire. Ah, non mi vuoi? Oh, però deve essere una persona di rispetto, eh? Perché è arrivato con una di, con gli automobili, usci. Oh, lì. Eh, o le suve non le vege, o le basano, come, come le? O le suve non le simpatiche. No, 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 ma è strano. Mi in persona è simpatica, da un po' di tempo io non ne conosco. Nemmeno me io. Io non ne conosco. Pessoa l'arma. Uh, Carlino. Carissimo, Dio, che andava. Oh, ma, ma. È Carlino. È Carlino, in persona. Carlino, in verità, perché non me l'hai detto che era Carlino? È una bella improvvisata, niente nome a questa che già. Ma andava che mi dicesse, eh, Carlino, mi capivo che te. Ma non lo potevo, ma come c'è, guardia, glielo, se non lo potevano. Oh, beh, sa che sei qui, prepara per un'altra tavola. Sì, poi toverti in cucina che c'è uno di più. Oh, Carlino. Oh, come stai bene. Anche chi mi fa che che sei, è barba. Non c'è, sì, sì, io sto, io, io sto bene, io sto bene. Oh, Carlino, e quando sei arrivato? Ah, Gennaro, ma Gennaro va avanti, niente? Ah, ma appena non so più che te chi, ma senza dire tre, ne quattro, ma sono venuto a fare una bella gita immediatamente. Hai fatto, benissimo. Era già un po' che non ci si vedevano le altre, no? Più di dieci anni. Più di dieci anni, ero partito, che erano ragazzi da un bambino. Ma bambino, no. Bambino, avevi le braga e corre? Avevi le braga e corre? Eh, sì, ma le braga. Hai fatto bene a mettere le lunghe, perché ho ramo. Ho ramo, 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 ho ramo. E dimmi un po' adesso come idea, se ti fermi tanto direi molto, un po' tre anni. No, di preciso, non lo so ancora, ma un paio di mesi, certo. Ho lavorato per quattro, se mi ferma nì, se mi viene addosso la febbre. E la febbre del lavoro, ogni tanto... La febbre, sì, la febbre. Sì, la febbre del tigre. Ma poi passa, è bravo Carlino, è bravo Carlino. E poi ho cominciato ad avere delle commissioni, dalla Colonia Cosmopolita, poco a poco. Dalla Colonia Cosmopolita, eh sì. Cosmo? Polita. Ah, lì c'è il mare, se... No, Polita. Polita. A Nizia è una stazione climatica, ci sono gente di tutte le razze. Sì, sì, succede, 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 ma poi passa. È bravo Carlino, è bravo Carlino. Come è capitata l'occasione di fare ritratto al re del Siam, che era di passaggio da Nizia? Quella è una bella occasione. Il re di coso? Del Siam. Siam. Eh sì? Il re. Un re. Passava? No, passava. Tic, t'ho fatto la fotografia. Ha posato, ha posato. Ha posato, ecco, 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 ecco. E bravo Carlino, pensa un po' Carlino, se fossero vivi i tuoi papà e mamma di vedere il tuo figlio così nella celebrità, in una bella posizione. Eh no, perché è una bella, no, no, è una bella, no, hai una bella posizione. No, per portarlo avanti. L'automobile, l'automobile è il tuo. Io ho fatto il viaggio da Nizia. Ma ha detto alla contadina che bisogna vedere, a parte vedere una corazzata, eh? È vero? Mmm, corazzata no, Dio, la 40, capito? L'automobile? Ci dico una 40 HP, non è una grande macchina? 40... HP. Non la capito. Eh sì? Ma ecco, mi spiego meglio. Mmm. Diciamo 40 CV? Ah, cavalli. Ecco. Cosa, allora io non ho ancora capito bene. Non ho ancora capito bene se sei arrivato con l'automobile qui che vuoi, no? Ma no, ma il motore che porta 40, 40 HP, cavalli, un terreno tecnico e non saprei spiegarmi meglio, ma capiti cavalli. Eh sì, succede, succede, ma poi passa, è bravo Carlina, è bravo Carlina. Però, però l'ho comprato d'occasione, eh, l'occasione. Di me vuoi? E Asia, e Alea, stando bene? Sì, stando bene, adesso la vediamo. Alea, meschinetta, ho sentito della, della disgrazia, del... Grazie. Dimmi un po', come è andata a suicidarsi? Debiti. Per i debiti? Debiti. Debiti fino a sciopunta di capire. Per via del gioco, no? Non si sa, mistero. Un giorno per fare fronte dell'impegno, si è approfittato, pare, del deposito di un cliente. Ma perché era un avvocato questo? Era avvocato, l'avevano fatto studiare l'avvocato, se li sono spesi bene le palanca per farlo studiare l'avvocato, no? E insomma, che si è trovato con l'acqua alla gola, non sapeva più come fare, si vede allora lui con una botta di tricchiatrache ha chiuso il bilancio. Chissà, la Lea, meschinetta. Eh, non me ne parlare, non me ne parlare. Dopo quasi un anno ti avvenecare lì che piange come se fosse mancato ieri. Vedi, vedi? E pazienza che fosse stato un essere che avesse meritato la botta. L'è lì, tu me, me che fa sua bilancio. Ma non era qualcosa di speciale questa cosa? Ma che speciale, voleva un scemo. Ah sì? Voleva un scemo, se mai erano scemo speciali. Oh, ma per dopo. Ma tutto quello che l'ho fatto, ha fatto un fin di bene. Sì. Un fin di bene. Sua moglie, sua moglie ne aveva fatto una marmota che non parlava e non pensava se non con la sua stessa e la sua bocca. Di mia moglie la sua chereidme con patate. Mia moglie. Dio, sei, una donina che con due carameli di marronclate. Sì, sì, sì. Se fai dire quello che vuoi a quella donina lì. O me la aveva in Orvieto e te dò al punto che una volta perché io mi sono rifiutato di pagargli delle cambiali. Sì. Mia moglie è stata sei mesi senza guardarmi in fronte. Sì, sì, e mia figlia, mia figlia quando mi incontrava per la strada si girava dall'altra parte. Ma ti lascio dire, ma... Poi, mio, me ne ho fatto, me ne ho fatto. Ma che roba. Me ne ho fatto. E nemmeno da morto mi lascia tranquillamente. Come sarebbe a dire? No, no, perché aveva dei debiti, ne aveva fitto. E ne ho lasciato di quelli da far venire la pelle di Galileo. Bene, adesso, tanto l'Elea che l'Albina pretenderrebbero che io pagassi questi debiti per un riguardo alla memoria dell'estito. E siccome io non intendo di pagare tutti i giorni, scene, lacrime, musi, lunghe, ma come? Io dovrei andare in rovina per uno che si è sempre pregato di vedermi morire per pagare con le mie palanca i suoi debiti, ma ringraziando il Signore. C'è andato prima lui a sentire cantare il Barbacione, se. E voilà, e voilà, che Dio è giusto e misericordioso, non c'è niente così. Cosa ti succede mai, Barbacione? Chi l'avrebbe mai immaginato una cosa? Non hai l'idea cosa è diventata la mia vita da un anno a sto parte. Si, se, stanco di lavorare, ho detto, beh, gioca tanto da vivere, cioè, cerchiamo di passare in faccia questi ultimi anni. Io l'ho fatto bene a me, ma sarebbe l'ho chinta in questo paese, in questo schifosissimo di un paese dove... Pensa che i giornali da Sena a chi? Da Genova a chi? Giornali? Tre giorni. Tre giorni? Un giornale ci mette tre giorni per arrivare qui. Che servizio sei! Nemmeno se ve ne sapete, mamma perché... È vero, è vero. È vero, è vero. Non c'è un cane. Non c'è un cane da starci un po' insieme, hai contratto qualcuno... Tu non ho quattro carretti con dei muli. Eh, carretti con dei muli, non puoi mica fare dei discorsi coi muli, coi carretti. Sì, sì, sì. Non c'è un cane, non c'è un scemo, ma non c'è un scemo da starci un po'... Oggi ti arrivo, ti conviene a fare? Ah, ah ah, ma mia, maa barba, urlone. E ti sai il più bello divertimento in questo paese? Che cos'olè? Sì, sì. Andare per funghi. Per funghi? Non c'è altro che andare per funghi. Eh, beh. Eh, perché qui è un paese che ha un po' di soli, un po' d'acqua, funghi, soli, acqua, funghi. Non c'è altro da fare che andare per funghi, ci bisogna regolarsi sul periposi. Sì, sì, sì. È tutto perché un individuo ci è venuto l'idea di essere sotterrato dove era nato, come se asinano che fosse stata tanta terra abbastanza per coprirlo. E per quelli di là come se asinano per quelli di là le lacrime non potessero fare il suo corso a ruota libera. Sì, sì, sì. Mette alla ciocci di casa. In questa casa tutti i discorsi si concentrano sempre lì. Sì. Cimiteri. Sì, sì. Noi parliamo di cimiteri, di tombi. Ma guarda che divertimento. Tutti i giorni. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Così, quando vogliamo stare un po' a evri, allora si parla di un trasporto funebre. Allora non c'è mai. Ma che razza di parte. Mi giro da una parte, c'è la figlia che piange, dall'altra la moglie che sospira. Anche la serva. Anche la serva. Anche la serva. Anche la serva, con un robinetto guasso sempre. Che affettivo. Robinetto. Oh, c'è dico. E il bello è questo, che non sono neanche padrone di fare due passi per casa, senza vederselo davanti, col colo storto. E ti vedi tutti questi ritrati? Sì, vero. Tutti i suoi. Ah, è sempre lui? Tutti i suoi. Ho capito. Tutti i suoi. Lo trovi in piedi, è seduto, curicato, tre quarti di profilo. Sì, sì, guardalo là. Tutti, c'è ne uno che pesca. Anche. Tutti i suoi. E me mi pare... Galleria d'arte. Sì, sì, sì. Galleria. In grasso libero. E non puoi fare due passi per casa senza vederselo davanti, perché giri un angolo e poi lì, giri l'altro e poi lì. Lo sai che non sapendo più dove metterlo? Me ne ha messo uno anche, me ne ha messo uno nella mia camera da lei. Anche lì? Proprio di fronte, ho messo l'impressione che mi fa quel retratto. Alla sera quando vado a dormire, alla mattina quando mi alzo e me lo vedo sempre lì, con quelli di oggi da pesce, non c'è troppo fresco. Che mi guarda, mi guarda, fissu pare che mi dica, ti che vedi, non te lascio e te ingegli e nemmeno andammo. Per dormire, per dormire, prendo che pigeli, non so che fassi. Oh ma che punti, barba. A questi, a questi punti. Ti levi, lo staccalo. Non l'ho staccato una volta, l'ho provato. Ho provato a staccarlo una volta il giorno, dopo ce n'ho trovato due. E non oramai. Andiamo, questo è troppo, no. Eh, oramai. Ma sai cosa faccio? Sì. Oh, me ne ritorno la sera da sola. Eh. Me ne ritorno la sera da sola, me ne vado un trattore e me faccio delle mangiate. Ecco ti vedi. Che la casa brucia a divertirmi bene, ma no, senti, intanto un po' di distrazione te la procurerò io. Sì? Ma sì, veniamo a pigiare spesso con una macchina, fai delle belle gite in riviera, in città, eccetera. Ma davvero, ti sarai tanta riconoscenza. Carlino, perché non vieni a passare qualche giorno che coniato? Eh, perché no? Direi perché no? No, è sicuro, si andrà a cazzo, si giocherà le carte, qualche cosa si farà. Ho le bocce, 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 ho le bocce. Sì, giocchiamo le bocce. Sì. Ma cosa quello qua? Che vita, che vita che ti fai, barba. Senti. Sì. Quando parto, tu sai cosa si fa? Cosa si fa? Ti vieni a passare un po' di tempo con me sulla Costa Azzurra. Ah, ma la Costa Azzurra? Ti vieni? Che padron, che bellezza! E poi mi è andata a chiamare, mi è andata a chiamare quello dell'armonica. Ah, sì, sì, te pago io. Beh, e mi è andata a chiamare anche uno che sono alla chitarra, che pago io. Che padron, quello da chitarra che lo mi. È il mio cugino. Oh, quello viene gratis. Ah, sì? Sì. È un cugino? Un cugino. Suona la chitarra? La chitarra. E viene gratis? Gratis. Un cugino che suona l'armonica non ce l'hai? Quello non c'è. Lo paghiamo? Benissimo. Lo paghiamo. E sabato sera, quando ho finito di mangiare, vengono qua due stati anche a me. Puscia! A Romero, un ballerino a suo tempo, che ci faceva caldo, sai? No, davvero? Un ballerino, per esempio, la mia passione, valser. Oh, che bello. Che bello. È il valser. Suonavano qualche mazorca. Io ballavo sempre valser. Genera un po' in falso è che se lo sanno suonare lo facciamo insieme, ma apriamo le danze. Apriamo le danze con quel valser. Se non lo sanno suonare ce lo fischio. Ce lo fischio ma facciamo il valser. Col valser. Bene. la rai la rai la rai alle cosci ballo ballo presto andrò a imparare anche la danza moderna voglio imparare la cucaraccia la rumba la caccia tutto quello si io buongiorno come va? che non muore e si vive eh l'ho detto sei presto a cena 4 o 5 giorni ma quando manca qui dentro le giornate diventano mesi ma va la che in compenso stamattina da fare una bella proposta se eh basta di basta che non si tratti di farmi il ritratto quello ormai mi hai fatto la fronte di rifiutare una volta ma figurati io sarei orgoglioso di farmi fare il ritratto da di ma metti in ponti ma poi mi fai un bel ritratto e non c'è niente da dire niente questi di caso prendono il bel ritratto che metta una bella cornice e fin qui non c'è niente da dire no un bel giorno io porto qui ci sarebbe da dire ma inutile dire cosa succede che in questa casa prendono questo bel ritratto con questa bella cornice e l'attaccano vicino a quel decotto la capito penso un po' giorni e notti tutti e due le vecchie vabbè mi rispetto i tuoi idee non ne parliamo più dunque diceva che ho da farti una magnifica proposta una gita un salotto sicuro ma lunga è più bella di quante se ne è fatte finora ha provato l'anonimo c'è più uno dimmi un po' la zia la lea e il salotto cosa mi piace cosa mi piace andare via via prima sono ritornato fate presto io mi metto davanti mi metto davanti così ti fa male ci metto di giuro mi metto davanti di qui a via reggio che è circa 125 km in 2-3 ore ci ci va ma comodamente a via reggio quel paese che è lì delà di quel monte lì non è via reggio è monteggio che c'entra un po' io dico via reggio ah via reggio è sicuro con la macchina se non riesci a portarmi a via reggio si ma via reggio diremo via reggio proprio dove c'è via reggio a via reggio a via reggio sulla macchina della nostra cusina e lui è lui ahahah 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 guarda senti l'invito alla lea bisogna farlo ma con una certa diplomazia si perchè quella lì sennò la attacca la attacca la attacca senza dare importanza come se fosse una gitarrella come fosse una passeggiata giriamo l'angolo capito giriamo l'angolo andiamo a comprare un pacchetto di sigaretta ecco indifferenza indifferenza senza tal importanza d'accordo buongiorno grazie 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 stai bene? vedo vedo carlino avventaggio ho un tempo magnifico anche l'asino ah senti caro hai visto l'avvocato? che domande? fino al primo giorno immediatamente ah hai visto? sicuro? ecco pazienza un momentino perchè prima di tutto bisogna che dimostri che non mi scordo mai della mia azienda è arrivata è arrivata la Befano è arrivata la Befano e chi parla del titico dell'Ecre? zia intanto ecco chi è caramelle di menta ti piace grazie sei ricordato sei roba sempre con la caramella e qui ci sono cioccolatini al cognac ma deliziosi eh anche questi per sicuro grazie ma figura ma figura questi poi sono canditi di Genova veramente a non plus ultra e tu? ti vedi che mi è mortificato no no io non sono mortificato c'ha pazienza a mortificarti quello eh valla che ti conosco margarita ahahah ahahah grazie ma perchè ti disturbi? naturalmente c'è qualche cosa anche per te ecco qui intanto un bel flacocino di acqua di acqua di acqua di acqua acqua di colonna si sente capisci no 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 questa poi l'ho comperata col fatto e cos'è? di poterla cambiare casomai non fosse di tuo gusto oh no ma vieni a vedere l'altro giorno dicevi di andare a Genova per via di 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 una vestaglia sì eh ecco eh ma ma perché ma qua eccola qui guarda un po' se hai indovinato il tuo gusto perchè un po' è una cosa un po' ma io non so cosa dirti carlino ma è bella bellissima sì perché ma guarda guarda ma guarda che bella troppo bella bella dai sì carlino 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 amica hai mica dimenticato qualche pacchetto e cosa ti vuoi a casa di me no delle volte non ti muovere se mettere i pacchetti un brum 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 ha mica dimenticato 1 2 3 4 5 no e su tutti 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 ci sono tutti e altri ti vuoi che me perchè barba scusa un po' ho capito ho capito mi mortifico ho capito mi son dimenticato ma papà ma cosa vai a pensare mi son dimenticato ma io non so ma io non so ma corlino ma io non so non so sai se potrò metterla ma perchè è corta ma no ma ma che è corta papà è corta e allora no ma ma è piegata è piegata è piegata è piegata è piegata è piegata ma non è corta papà e allora no soltanto vedi che sono in lutto no bisognerebbe che fosse nera o almeno sai di una tinta un poco scura nera lutto nera si papà cosa vuoi lutto nera e vabbè è una tinta una tinta è una sciaperna che poi a forza di portarla una tinta si prende no e la sciaperna è una tinta è un lutto no e dopo i primi sei mesi ma lo è con suetudine no andiamo lea dopo i primi sei mesi è contratto eh tutti gli hanno retardo di cinque mesi in mattina che si è contratto e quel dolore vero non ha niente a che fare con le cose esteriori scusa lea questo è vero quello che conta poi è il dolore intimo il dolore interno ecco brava brava cosa mi piace il dolore deve essere intimo deve essere intimo interno il lutto è interno il nero il nero deve essere interno come i calamaretti e poi una tonino intelligente come te ma lea e dunque si diceva che sono stato dal tuo avvocato ah si si dimmi carlino eh no è giù dice che ci sono stato è stato che ha bagnato del suo per noi ah che mi hai che mi hai che nè del tempo da buttare via dimmi 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 dunque che io ho parlato col tuo avvocato cioè con l'avvocato Ferrari E per combinazione, guarda, abbiamo fatto il ginasio assieme. Ma davvero? Ma sì, Ferrari, per barro. E quando si dice, eh? Sì, sì, sì. E dimmi, ti ha detto se è riuscita a riscuotere qualche cosa? Oh, Dio, qualche minuzia, qualche cosa. Ma come qualche minuzia? Ma come cosa dici? E pure così, è così. Mi, mi, eh? Cosa c'è, papà? Ah, niente, niente, vediamo. Sì, ecco, lasciate parlare. Eh, bravo, lasciamo parlare. No, non posso parlare. Ma, ecco. Io ti... Ma torno da te. Barba, sono cose serie. Sono cose serie, lasci me parlare. E io canto. Eh? Voy a parlare, se l'argomento così. Eh, ma sì, ecco. Viene l'aligno di arreggio. Oh, oh. Dice voce. Grazie a tutti. 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 Vivo. Per un mese. Grazie a tutti. e potete portare. e a tutti. così. va bene. a tutti. e a tutti. 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 immagino. a tutti. 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 Cosa? Cosa l'è successo? Cosa l'è successo? Cosa l'è successo? I funghi! I funghi! Ma cosa ti ne hai fatto di giudizio? O che va proprio a nominare i funghi che erano la passione? E come lo potrete? Oh Signor Santissimo Padre Eterno, proteggetemi! Proteggetemi del resto in verso la barca, andiamo tutti a barca! Ma che succede? Ma che punti, ma che punti di schiavitù! Sono ridotto! Ma fino a dover mangiare come vuole lui, eh? Ah no, questa soddisfazione non te la do! Domenico, mi bevo magari un bottigio, un due o un ricino, ma con i funghi li mangio tutti! Romor di Dio! Ma sono indigesti! Ma ci mancano i piatti! No Signor! Non è che la... No! Lasch! Lasch! Forza di con i funghi! Ma sono indigesti! Arratola! Niente! 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 Allora! Eh! Ma poi a Filomena l'ha detto che per via di... E voi ha chiesto sempre in realtà con lo seno a figli mandando a Filomena! E stiamo a vedere che tutto il genere romano non muoverà più fuori e non potrà nemmeno più danzare! E quello che dico anche a me! E invece quella veglia l'ha già un giorno ciò che l'altro! Non vorrei sbagliarmi eh! Ma un sciù di cinque a Filomena devano armare qualcosa di grosso! Perché? E vedo sempre insieme a fare pisi pisi! Cosa fanno? Pisi pisi! Pisi pisi? Sì! Ma il suo padrone discurano insieme! Dimmi che parlano insieme! Pisi pisi! Sì! Parlano piano! Pisi pisi! Eh! E poi è possibile che l'ha detto anche Carlin di lasciare tranquilla la signora! Ma se fanno tanto di non stare agli ordini! Ah! Filomena che mette in mano tutti i retrati del suo padrone! E poi con un calcio cazzo! So io dove! Eh! Ci faccio che passare il calciaro della vila! Benissimo! E un sciù baci e cimba figo con due schiaffi a dovere! Lo mando a parlare coi pesciolini rossi nella peschiera! Prendissimo! Ah ah! Intanto di me poi! Sì! La Filomena ha detto di non balare! No! Io vi devo ordine! Di balare! Fino a che avete delle scarpe indotto! Oh! Che bello! E vi portate un paio di scarpe di ricambio! Mamma mia! Sì! Oh! Sì!